bentornati ragazzi dalla mia cameretta un'altra giornata di live fammi portare la spazzatura benvenuti nella mia postazione io mi chiamo giascarlo mi chiamo giascarlo giovane youtuber da come potete vedere no da come potete vedere dalla mia videocamera sono un giovane youtuber estreme della piattaforma rossa guardate la mia nuova fotocamera ecco content pronto signore a baciare ragazzi signore signore grazie barsi signore signore sono alessandro della giusta mi può fare un giro grazie jack salute grazie signore niente signore signore signora sono alessandro della giusta posso trovare un giro sulla sua supercar ma non riesco cavolo che live di merda prendi una pistola un caricatore e torna a sparare con gherini ciao giust andiamo alla caccia di belle fighe salve salve monasi ma cosa mi fa lo snappo che entra per tatuarsi in maniera finta impennata ma ha fatto ha fatto grazie favi j allora andiamo all'ospedale che ci sono i miei amici la nostra banda non mi caga nessuno ragazzi sono fallito grazie adri grazie totti ecco un'altra supercar ecco un'altra supercar signora sono alessandro della giusta vorrei recensire e farmi un giro con lei posso entrare? ma fa mocca signora ma fa mocca i maleducati mi stanno sul culo allora grazie marco no sono carlo grazie totti e dov'è c'è dov'è eh vabbè ragazzi scusatemi dove ho una bici ecco si salve content oh content ha 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 beh però come si va come si come si come si va oh sono ora andiamo a ricercare gli spacciatori più famosi di questa città lei è uno spacciatore? fottiti lei signore è uno spacciatore? siamo qua a Treviso nella piazza principale a cercare gli spacciatori che rovidano il quartiere sentite eh esco un attimo dall'rp ehm dov'è l'ospedale? al boschetto no oh andrei andare al boschetto eh un po' rp ah quando faccio la città dov'è l'ospedale? grazie Simo ma guardate che mi sa che ehm sì Vlad Rise ma sono 100 bit sicuro perché non partono per cui forse credo che siano 200 ancora 200 bits 2 euro scusatemi ragazzi sto facendo una cosa tecnica che sto cercando l'ospedale come stai? bene nonnino scusami a bombazza guardate le mani 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 se ami le minorenne mi scuso dove sta l'ospedale? oh mi ti prego libera mio fratello dalla cantina ok 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 dove sta di solito all'ospedale? è quello con la scala ragazzi eh devo mangiare ora muoio qua ora muoio ho 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 ma non c'è nessun umano ho ho ecco stai da di qua aaaah che è in terra c'è la città Ecco 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 Salve signora a fanculo sono due botti Hai di quali qua No adesso non iniziate insultarvi in chat La mano sinistra si ragazzi devo tenere anche la videochiavera Allora potrebbe essere di qua l'ospedale Oh Joker? Ah no no Joker Scusate Oh tutto sotto vabbè Via e si riaccelera per questa pedalata in cerca degli spacciatori di Treviso Ah mi sa che mi devo mettere la cintura Oh messa la cintura Oh ora vado senza la cintura Oh messa Dovebbe essere di qua Non so io non lo so ragazzi Sto per aprire l'inventario Guardate le mani se hai una felpa viola Guardate le mani se giochi a GTA Guardate le mani se scopi le minorenne Eccolo ho trovato Trovato ho trovato Ah come se c'è in questa città Ragazzi punto esclavativo Oh eccolo Madux ve lo riconosco dalla portiera Oh aspettate Taloncini da buttana video camera grossa Come la sua testa e i capelli Cadenti di pallone Mani in color blu E c'è la Madux Via via Acceleriamo con queste mie gambe Da importunista Sto per morire Bisogna di mangiare Anche da degli spacciatori Non ce la faccio più Aiuto signora Perché ho scelto di andare in bici Sono proprio un fallito Salve brumo teatrol Ma il profeta aveva mica ragione Sulla guerra negli Stati Uniti No per favore Dona serie del P Posso ancora usare il mio flash Per indicare la posizione dei medici Ah five head clap Five head clap No non sono 14 minuti così Adesso arrivano i medici Come si scrive nella città Hai Carlo Carlone Ma come cazzo sei ridotto Dio bonino Mi hai mandato un messaggio Mi hai detto Ah stasera mi spacco Ma non credevo Così letteralmente Eh Partiamo dall'ospedale La la lero la la Sono un fiore di città Un fiore di città Una rosa prelibata Non ho spine Ma spinotti La 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 Ah è l'ospedale proprio qua davanti Che comodità Sono un fiore di città Enrico guarda che gacchi E torna in RP Eh Gracchio Gracchio ancora? Vediamo Sì prova prova Un pochino sì E che cazzo ne so io Sono un fiore di città Content Oh Max Ragazzi Guarda come ho trovato Carlo Tutto spattasciato al silenzio Grazie a te e tutti i risati Grazie a te e tutti i risati Allora ragazzi Vi voglio dire Ragazzi non mi preoccupate Se donate Cerchiamo di donare in RP Lo portiamo subito in salto Perché loro lo sentono Le donazioni Pronto medicine? Per cui mi chiamo Io mi chiamo Già Scarlo Cercare di donarmi in RP Ci sono dottor medici qui? Pronto? Allora Carlone ti lascio qua Un secondo Sono un fiore di città Vieni Max Andiamo a cercare un dottor medico Dottor medici? Cosa è donata a questo coglione? Cosa ci fai tu in chat a vedere no? Stupido coglione Beccati questi due megavaffanculo in stream Fallito di merda Luca abita e salva l'inviato di striscia bullizzato da una baby gang Dio non è possibile Cioè questo salva No stavo parlando su GTA E sono tre Oh? E? Mi piace la merda Che qua c'è? Dice c'è qualcosa dentro Salve È morto? Minchia Entra qua Entra qua Guarda chi c'è qua Tutto? C'è uno morto Ma ha le pinna Eh non lo so che cazzo faceva qua con le pinne Un sub C'è qua con le pinne C'è un sub Eh scemo Oddio Vieni a vedere Oddio Si è addormentato questo scemo Oddio Oddio Scemo Oddio Ma provate Ragazzi c'è una siringa Ragazzi c'è una siringa Questo mi segue Vedete se c'è un medicinale Vedete se c'è un medicinale Vedete se c'è un medicinale Vedete se c'è un po' di Sanax Prendete se la partiamo via Mettigli una mazza nel culo Mettigli una mazza nel culo Vai vai aspettate che ho metto in un zainetto Ma a me dici non c'è n'è C'è un anax C'è un anax C'è un anax L'ho preso un anax Aspettate che provo a leggere A B C C Veramente è Di To Troia Grazie live Ma che cazzo è quello lì per terra Bu è un carino con le pinne Eh mica con le pinne cazzo Ma metti io la mazza nel culo Così io faccio Ma Carlo Carlo controlla se ha delle armi Che nel caso lo aiutiamo Grazie Nick Ma controlla se ha delle armi No è che almeno si sa se le perde o meno Capito nella morte Cosa mi ha preso Noi adesso noiarci Te avete del fumo buono Ma Del fumo buono Che Grazie patracchio Stiamo cercando dei medici Stiamo cercando dei dottor medici Ma non ci sono Dottor medici Infatti l'abbiamo messo nel cinto tranquillo Ma c'è un telefono che parla ogni tot È in live È su YouTube Avete del fumo buono Salutate i cambiati Ciao cambiati Ciao cambiati Ciao cambiati Ciao Sono la sua community fedelissima Della piattaforma rossa Cosa gli è successo? Ah capisco È cambiato anche lui? No Sono Lui è Just Carlo Guardate qua È sempre in posa Ma sono tutti Con le pinne Poverino mi dispiace No quella lì perché vuole far l'edgelord I cambiati sono così Capito? C'è una macchina Non l'ho capito Ma io non posso dar niente Ma qualcuno ha un telefono per chiamare il 118? Vediamo vediamo Finita finita vediamo Dottore Dottore L'aspettano L'aspettano nella prima stanza sinistra No non mi fa l'intervento Venga venga C'è un po' di persone che hanno bisogno Qua qua Salve ragazzi Sono il modo di Just Cavlo Paolo Cassi Porco Dio Andate a chiamare il medico Non vedete che il nostro stramer Just Cavlo sta morendo Aiutatelo per favore Lo so ragazzi Lo so Cambiati State tranquilli Stiamo intervenendo È qua il medico Eccolo Oh Osvaldo No come c'è che si chiamava Non mi trovi Tutti quelli che non c'entrano Con il passato Grande Just Cavlo ti seguo Da quando ti facevi sciottini e sciottini Di sbobbe e stupravi Gli agnellini In difesa Del selvazio sessuale Insieme all'ambiente Ragazzi Tutti quelli che non hanno a che fare Con il paziente a terra Te possono uscire gentilmente Io c'erano a riguare Perché mi ha molesto Io che fare No Siete pregati di allontanarvi Da Carlone Da mio amico Carlone Che è successo qua? Cazzo Gesù Alta una modifica Bello Ecco qua Carlo Che è successo? Guarda L'ho trovato Stavo venendo in qua L'ho trovato per terra così Mi aveva detto Che si sarebbe spaccato Ma non volevo così tanto E più che altro In live Rischia anche Ah proprio così Un'operazione di urgenza Anche In live Rischia anche il ban Capito? Quindi meglio Meglio aggiustarlo subito Sì abbiamo dovuto mettere La live in bianco e nero Perché non si vedesse Il rosso del sangue Bravo E poi La sua community Dei cambiati Non riuscirebbe A starare l'altra banda Eccoci qua piano piano Sono un fiore di città Attenzione Ok Allora così Carlone Come stai? Ok Come si chiama? È Giascarlo Giascarlo Cannone Carlo mi sente? Ok Eccolo Sono i suoi tipici versi Ah cerchi Appena può discendere Ok Va bene Eccoci qua Oh Che è successo Grazie Ehi Che è successo È che Ieri ho preso Troppe metanfetamine E ho bisogno Di mangiare E sono Morto Di fame Ok Ora come si sente? Ora mi sento Abbastanza bene Salute dal topo Ho poco a poco Languorino Ma la ringrazio Dottor Svardo Chi è Osvaldo? No dottore Dottore Ah ok Perfetto Grazie dottore Grazie dottore Grazie mille Faccio una fatturina Piccola piccola Va bene La pago subito Con le mie donazioni Che spero siano arrivate Moderatore Max Hai impostato le donazioni? Max ma ti sei fatto assumere Da Giascarlo? Se l'altro si può allontanare Sennò si prende la fattura Oh no 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 Ho semplicemente messo in bianco e nero Per quale attenzione Con l'infetamini Qualche cosa torna in ospedale Grazie Sì sì Sono nelle feste al vanilla Mi lascio sempre andare Cerchi di mangiare anche un po' Se no Andiamo a mangiare C'è qualcosa di aperto? Eh non so Il culo del dottore Devo mangiare anch'io Carlone Andiamo a prenderci un panino Andiamo Grazie dottore Arrivederci Dottore abbiamo bisogno Dottore mi serve Una bella visita Arrivederci Arrivederci Stavo facendo Blumotti Della situazione Eh ho visto Ma cazzo Fai attenzione Cioè se fossi passato di lì No questi sono i Ghostbusters Lascia stare Vieni Ma dov'è Max Osvaldo? Salve 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 No no E' uno scammer E' uno scammer Carlo Ecco si si Io sono Don Franco Buonasera Buonasera Don Franco Allora ragazzi Se volete Estremunzioni Sono 50.000 Minchia Minchia Eh si si La motte si paga ragazzi Ma che stai non se ne fa? Eh sono sac Praticamente prendo La forza da tutti gli spiriti E poi gli faccio Un apparatoro Ma lei si intende di spiriti Perché io Ho alcuni demoni Che mi inseguono Sì Grazie Ripaz Mi tica Mi tica Eh praticamente Ho avuto dei contatti Con il celebre Mago Divino Hotelma Che mi ha dato Dei demoni Mistico Divino Hotelma Grazie Via che stasera Allora stiamo in contatto Dottor Lundini Arrivederci Vuoi togliere la musica Che mi copyrightano Ma chi era il famoso Laverio Vondini No no Non era quello Mi può togliere questa musica Per favore Max Dubito Allora la posso togliere io Ok ok Eh Sono un fiore di lilla Ma questa macchina Possiamo Allora Scusa Un attimo Questa live Sull'abbiata Diamo un giro di qualcosa Ragazzi Io sto morendo di fame pur io Allora Te le metto subito Sono già morto di fame prima Non vorrei che si ripetesse Dovrebbe essere questo qua M Ma che è sta voce Ma la radio non è stata spenta Eh ma perché Sai che c'è un muscolo Per spegnere direttamente Vuoi un po' di pillole contro la schizofrenia No no grazie La sua ecstasy non la voglio Ma no no Sono davvero contro la schizofrenia Me le ha prescritte il medico Oh Ciao Just Cavolo sono la mamma So che vuoi assomigliare a tuo padre Cavolo cortocazzo Ma sei una nullità come tutti quelli che ti seguono Se vuoi essere come tuo padre Devi conquistare la città Grazie mamma Ma che cos'era Sono le donazioni Siamo con lo streamer in live Just Carlo Salve Buonasera 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 Ma di che cosa state parlando Buonasera Buonasera In testa che sentiamo anche noi Signore alla Barba Rosa Non è una vocina È la cassa Ha la cassa Chi la sale di buone Ah Ha la cassa Sono in diretta Sulla piattaforma rossa Quanti siamo Quanti siamo Ciao mamma Quanti siamo Oh Eccoci Rendiamo MR Omi 4316 Il primo streame Il miliardario Toppitali Che teno Eccoci Scusatevi delle donazioni Grazie Grazie a Vario Signore Potete avere degli hamburger Io avrei bisogno di patatine E di bere Non so Posso parlare con lei Ma lei le paga gli scottrini Già scarlo Siamo in live Che domanda del cazzo fai Appunto Live reportage per di te Ma questo è il famoso Mobile Los Santos No questo è il mordio e via Mi piace la mordio e via Perché la m mi aveva confuso Io avevo letto il tuo vestito di pelle Permesso Max Dentro e fuori Ecco a te Ah ecco una fatturina Mi ricorda il muscolo per pagare le fatture Formula 5 caro Marman Senti ce l'hai qualcosina di salato Con il quale accompagnare il bere Certo Che ti serve Arachidi Vanno bene Ma lui vuole solo le Le droghe Che cazzo dici Carlo Anche io vado Cosa c'è Max Dico il falso Sì dici il falso Ah una bella città Volevo presentarvi Max Il mio moderatore No 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 Max No mi filmare cazzo Buonasera Buonasera Eccomi è una gag Cibo Ah sapete ma questo è lo youtuber Ieri stai facendo il contenuto Fuori al market Sì buonasera Buonasera Sono tornato Cibo abbastanza Sì signore Ma avete un po' di ketchup Che ha combinato Oh Cazzo Chi è che ha mangiato Il cigano No ma che io Sì è Frank Signore ma lei come si chiama Non ci siamo ancora Just Carlo Cannone Un cannone Si vuole fare un cannone con me No 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 Sono appena morto Per colpa di Delle metanfetamine Oh grazie Complimenti Io ho avuto un brutto Momento con quella roba Sono andato in comunità Eh si è dagli occhi Però adesso Adesso lei sta bene Sì molto bene Beh oddio Sono contento di sapere di questa Ma faccio No ma faccio crack No Just Carlo Fai una capriola 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 Scusatemi Mi hanno donato Devo fare una capriola La caprioletta No Eccola qua Grazie Grazie Signore Signore Vuole fare una foto Per il mondo del web Va bene Va bene Faccio Invece una foto Insieme A cannone Va Frank D va Ok L'ambio Con quel fiere di là Secondo Va Frank Che sei un sorpreso Coppo Twitter Come cazzo Sì Ah bella Aspetta davvero In Coppo Twitter Che Ho finito Ho finito Gigante Ma Fai Tu Sto Ma Sono Poveraccio Sto Ma Se C'è Tu Sto Povero E' Ancita E' Veramente Che Figura Merda Che fai Che cazzo Sto Vuoi fai di merda Che pizza Che ti sei mangiato Max Devo pagare la fattura Mi ha tolto Però l'appetito Sta fattura Posso Scusatemi 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 Posso Scusatemi Scusatemi Oddio Scusatemi Comunque le pinne Le danno Buongiorno Grazie Buongiorno Potrei avere Tre patatine Tre cose Secondo Io le consiglio Il panino Con la fattura Due panini Con la porchetta E due coca cola E l'ho preso E' buono Carlo Ho fatto Un maletto Due Tre Otto No no È set È due Cinque Tre Grazie Mi sto nervosendo Per cortesia Ditemi Chi è il prossimo Ok Grazie Due panini Con la porchetta Due coca cola Per favore Mi posso dare Delle cedrate Tre cedrate Va benissimo Ma che non significa Sta cosa Oh piano piano Oh piano piano Si piano E tre patatini Con la porchetta Oh Max Eh Enrico Che cazzo Che è successo Figa mi sono In svegliato Per l'ospedale Ma si viene Vista a fotocamera Da davanti Per cortesia Ma che cazzo Che è successo Se mi vuole fare Ogni dieci persone Mi facciamo Gentilmente Giascarlo Ma che è successo Mister Ma che brutta fine Che ha fatto Ora è dietro al bancone Non è un youtuber Di successo Come Giascarlo Gli ho divisi Salve Mi lo fa un menù Ma c'è la fila Scusa Che ingrato Ma lei è un cafone Grazie Mi raccomando ragazzi Passate sempre a questo locale Che è il migliore della città Che ne ha fatto un petto Eh ma qua si mangia Che appartiene Ma come stai Mi sei mancato Posso ricevere Altri due analcolici Per curiosità Ma potete stare zitti Che non si capisce un cazzo Grazie Grazie Parlavo nella mia testa Tutto bene Ti vedo Ti vedo molto colorito Sono in forma Allora Allora ragazzi Eccomi Eccomi Prova da fare le due notti Ma un po' tanto bene Oggi è il compleanno Di un mio carissimo Amicosi Chiamano Marco Cacico Potresti salutarlo Ti seguiamo tantissimi Scambiamo Un attimo solo Mi prendo un menù completo Ti aspettiamo fuori Ma ci ho dimenticato le pinne Per caso No È mio 250 È mio outfit da youtuber Vieni un attimo Mazza aspettate Che mi hanno scappato Questo fatto che Che quello strema Che è comunque bello Dio porco Vieni 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 Oh Ragazzi Oh Dobbiamo fuggire dalla fama Enrico Dimmi Come cazzo si mangia Qual è il tasto? Eh no Mi devi fare Muscolo F3 E poi Usa Muscolo Trascini Muscolo Muscolo Grazie Tyler No grazie Ok 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 Cosa volete? C'è una signorina C'è una signorina poppona? A posto No Basta Basta Fai la figura del vallita Sono un fiore di lilla Ma Max Le cazze Ragazzi Attuiamo il nostro piano Per acciolare qualche euro Avevo parcheggiato lì davanti Quindi ho paura Che ci abbiano Fottuto tutto Ah no guarda C'è una parcheggiata Abilmente qui mezzo alla stessa Andiamo Andiamo Non so se è una quattro posti Oh ragazzi Ma che cazzo state combinando? Il proprietario del locale Mi stava menando per colpa vostra Perché? Perché ha detto che Enrico Ha bestemmiato E mi stava menando Ancora lui Ancora lui Ancora lui Non ce la faccio più Poi Non ce la faccio più Salite salite ragazzi Questi ricoglioniti Mi senti? Sì Ma questo che cazzo è? Fuori dai ball Posso Ragazzi Posso accendere la streaming? Sì sì Certo Certo Si cerca di non filmare la strada Sennò questi capiscono Dove ci troviamo Bravo Senti Ci metti il pallino All'acquisto Sì ma Ragazzi Loro la streaming Non la possono vedere Perché possono essere cacciati Dalla città Quindi Va bene Questa cosa Il nostro Oh 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 C'è il tizio della bet Andiamo a giocarci una schedina Va bene Andiamo a fare il numero di telefono Ah ok Viaggio che c'è una schedina Dai Vabbè Eccomi Dov'è il piccolo Eccolo qua Grazie Dov'è Sì sì Ragazzi Adesso faremo finta di giocare una schedina Già scarro Guarda Salve Una schedina Un virtuale Salve un virtualino Oh Pronto Un virtualino Ma questo dorme sul posto di lavoro Sì Ciro immobile Un virtualino Pronto Questo sta dormendo Andiamo via Aspetta Facciamo un video qua dentro Non riesce a entrare Facciamo un video qua No C'è scarro È bannabile È bannabile È bannabile È bannabile Oh via via C'è gente Via 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 Max 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 Stai bloccando la porta Di roba mio Che c'è Non si scommette ragazzi Vattene a fanculo Sono un fiore di città Allora andiamo a farci i numeri In telefono Sono sul posto di lavoro Poi si lamentano che non c'è lavoro Figa Andiamo via Metto il punto per andare a comprare la sim Ma chi se vede la sim Scusatemi Andiamo a rompere queste auto di lusso Per farci dei soldi Via Allora la ferrari ieri ci ha portato solo guai Non ci ha portato un euro in tasca Lo capiamo Sì Oppere per una Lamborghini Sì ma perché non ci ha portato un euro Perché l'avete sfasciata tutta Ma non è una rappresaglia per far capire chi siamo Qua andiamo a comprare una sim Un telefono del cazzo Dovremmo trovare della committenza Qualcuno che ci chieda Ma io ho segnato dei numeri Almeno io vi vorrei fare il numero di telefono per chiamare Osvaldo Qua a destra Sì ma più che altro possiamo anche procurarci una radiolina Non le andrò a mentire potrebbe esserci utile A me ce l'ho già il telefono Io ce l'ho già il telefono Io ce l'ho sempre problemi con i muscoli radiolinei No Sì Cosa c'è Carlo? Io ce l'ho il telefono Il telefono ce l'ha? Ma la sim ce l'hai? Ma ce l'ho la sim Ma perché mi avete preso? Come stendo se no? E allora andiamo solo ad attivare il piano tariffario Ah porca puttana me lo dice adesso Ma porca che cazzo ne so io Ma facciamo un po' di contenuto in banca Max Sì dimmi tutto Figa fornisci un telefono una sim qui dentro Vai Eh sì Ti aspettiamo in minina Ma lei cosa ha fatto? Incidente in moto? Salve BB Gay? Oh Giordano Come sta? Ciao Giordano bene bene Tutto bene Ma che cazzo fai? Ma chi è questo? No niente è uno scherzo Volevo vedere un giro nella moto Un giro tra i più ricchi con le moto No ce l'ho Ale Facciamo BB Gay La radio a cosa potrebbe servire? Niente di che Che cosa? Ma è un pazzo Facciamo un prank a BB Gay Ho comprato un telefono Oh Ok le calcette non servono a nulla Ma si possono aggiungere Urla bombazza Urla bombazza Vieni Amici siamo qua Cazzo non ho il telefono Oh 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 Siamo qua con un famoso spaccio Ma chi è La vado Adesso scendi da qua Adesso scendi Ti faccio fuori pezzo di merda No no mi scusi Ti faccio fuori pezzo di merda Ti faccio fuori pezzo di merda Ti faccio fuori pezzo di merda No aglia Ti faccio fuori C'è un passante C'è un passante davanti Non può andare avanti Guarda 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 gli spacciatori di tre viso Eccole uno Ricordatevi il suo nome Lei è un ingrato Un giornalista ingrato Si vergogni Comunque col muscolo Z Alzate anche il tono vocale Oh Cazzo Oh Carlo sali su da noi No questo è stato un problema di città però ragazzi Allora il problema di città Te lo spacco in testa No 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 Vai via i coglioni Che sto facendo il mio lavoro Con la digos Carlo Segui quello Abbiamo un po' che si spesa Carlo premi il muscolo Z Carlo premi il muscolo Z Vai sali 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 Segui lo segui lo segui la data Vemuto Ok Questi cercano rogne eh Ecco le due città davanti a noi No no A destra a destra a destra Andato di qua Eh poi mi sape che cazzo eh Sono un fiore di città Mi sa che ne abbiamo perdite le tracce No 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 Appena lo ripetiamo Spacchiamo la faccia Cazzo Ecco Oh Figa Siamo fatti Siamo fatti in morto Carlo la prego salutare Mio tio si chiama Piero E quando ero piccolo Giocavamo sempre alla cavallina Con il suo biselino tra le mie cosce Ciao Piero No mi dissocio Bannabile Max Ah andiamo dal numerologo Max ma mi scusi Lei che è più Lei che è stato in città anche questa notte Ma prendiamo con l'auto Ah Guarda che classe Ma questo è più veloce Vabbè Ma quest'auto è l'auto di mia zia Elisabetta Donna Presa a pugni Dallo No Eccomi Guarda guarda No No Mi bannano Max Mi bannano Ma no no Ha sbagliato Ci cacciano per la struttura No personalità al mezzo In the moonfly Si 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 A questo punto Ho un telefono Ho una sim Se vogliamo chiamare qualche numero Di telefono No bisogna fare Il piano telefono Facciamo Si Vi metto il punto per fare il piano tarifario Va bene Ok Ok Una società di merda questa Eh maxone lo sai com'è Il piano tarifario Spero non sia Una truffa Vedrai che ci rifaremo Forse ci vogliono Forse ci vogliono le contanti Oh cazzo La puttana È francescano È quel francescano di merda Quello che ieri mi vuole Pezzo di merda Oh mio dio Max Che figlio di merda Max No non è una signora No non è una signora È francescano Ma c'è la gonna No è un francescano Salve Abbiamo già chiamato tutti Ho presente questo pervertito Doveva vendermi una pistola Cosa? Allora Proviamo a chiamare L'ambulanza A questo punto Occhio che se stiamo Occhio che se stiamo In mezzo alla strada Fanno così Occhio No Max Noi ce ne dobbiamo andare Subito da qua Ma è un ragazzo Lei ha commesso un omicidio Adesso scappiamo Allora mettimi Te l'ho messo Mettimi la banca Prima però Perché devi impiai con tanti Grazie vai Sì Sei Sì La banca E poi andiamo lì Ok La banca Ok ce l'ho Mettilo Metti tu Max Sì sì Ma quella ci faceva Quello in mezzo alla strada Max Erano francescano Ma non lo so Io sono fuori di testa Ma quello mi batte Ma quello è quel pazzo Che ha provato a stuprarla Mi aveva portato In mezzo al nulla Nel deserto Per vendermi un'arma Poi alla fine mi voleva Soltanto toccare Max ma te mica ti devi fidare Un poveraccio Occhio ragazzi Occhio E che potete potermi L'occhio Che abbiamo una macchina Piena di sacco Ma no Non è vero È pulitissima Io la vedo un po' sporca Di sangue Non ti andrò a mentire Ma sì Ma uno può dire Che il sangue è finto Ci sono tanti stream Che fanno queste Che fanno queste Che non è mezzo ed epoca E' un prank Sì Ma se ce l'hanno avvisa Da polizia Siamo giulati Beh è una macchina rubata Quindi non è che Eh vabbè Eh vabbè Solo macchine rubate Abbiamo rubato È per forza Ma voi l'avete presa La carta di genito Figa Eh sì Se un'auto è già rubata È il male minore Io ce l'ho la carta di genito Ho anche 40k sul conto Anch'io Sì Io c'ho un bel po' di soldi Sul conto Quest'oggi si è lavorato E allora quasi quasi Offri tu Ma non offro un cazzo di nulla No Dai andiamo qua Venite Devo acquistare un veicolo Devo acquistare la nostra streaming house Ma non si fa qua Ma io non ho un conto Ma che cazzo stai facendo Non ho un conto Già scarlo Seguimi Seguimi Questa è la famosa banca Faccia il conto Già scarlo Qui Al portello Paga Paga Parla allo sportello Qua la tizia Qua Sì salve Io sono uno che lavora Non mi potrei fare la poste pay Peppe Max Hai la carta di credito? Mi sa che ieri mi sono fatto Ah no Ce li avevo Ok A posto Sì sì Però Quanto devo prelevare Non mi vogliamo fare la poste pay Questi coglioni Io ho preso 10k Va bene Ma cosa ci dobbiamo fare con i soldi? Eh però allora Preleva 10k per farti piano tariffario A posto No Enrico Che cazzo fai? Ma per il piano tariffario Non servono i soldi da ritirare eh Te li preleva Ma mente perché servivano i contanti Ma sono tanti 10k Vabbè Io non vedevo i 15k Vabbè in caso li spediamo a bisproie Se ve li inculano son cazzi Ma si spendiamo i puttani Ma si ma si ci divertiamo Vai Max Vai Max Max il moderatore Vabbè ma non so perché Vabbè vabbè guiderò io Ora dove dobbiamo andare? All'operatore Telefonico Andiamo ad andare da Iliad Dai Via Dai Iliad Come si chiama? Metti tu va Ti l'ho messo io Non si preoccupi Fly me to the moon Enrico ma come mai le sconeggia la voce? Eh ma io l'ho detto anch'io Ma c'ha dei problemi a tiroide Fumato d'Oscola Prego faccia un reputaggio alla base militare Si dice che facciano gli esperimenti sugli alieni Ah ma c'è un certo ragazzi Quello di comprare una pistola non tracciata Ragazzi mi ha detto Ragazzi mi ha detto un certo fasto Durante la streaming di prima Di andare alla base militare Che fanno esperimenti sugli IA E andare a fare una streaming da Non esistono gli alieni No Max non dire così Ma non dire così Ma glielo facciamo credere Voi lo sai cosa vediamo Vediamo È verde Io sono d'accordo con Fanno culo gli alieni Non c'ho mai che Gli alieni esistono Ok se esistono Ma che si potesse Uh Un monster fast Gli alieni esistono Max Esistono e sono controllati Tramite 5G ovviamente Eh che andremo a fare adesso Eccolo qua Eccolo qua Siamo arrivati Guarda che bella discesa sincronizzata Allora Fatemi controllare Di non averne già un attivo Ma non credo Come si fa? Signorina? Ve l'avevo detto Di non prelevare Quei fottuti contatti Offerte telefoniche Non c'è niente Sì La prima Devi valutare l'opzione Che più ti piace Ti consiglio Allora Io ho un'offerta Livello 2 Però non ce l'ho nel telefono Capisci? Non ho offerte Non vedo offerte Enrico mi scusi Te ce l'hai il telefono Io ho sia il telefono che la sim Sì Però dovete Con virgola Il muscolo virgola Attivate la sim La inserite nel vostro Fottuto telefono di merda Ah ma vaffanculo Cazzo Eccolo 5 5 5 8 8 2 3 8 Ah adesso ce l'ho Allora dammi il tuo contatto Carlone 5 5 5 Aspetta Aspetta 5 5 5 8 8 2 3 8 Già scato Segni anche il mio Enrico Che io ho perso il telefono Sì Ricordami il nome Giordano 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 Bruno Giordano Pagiano 5 5 5 7 8 9 7 3 Non riesco ad attivare la sim 5 5 5 5 7 8 9 7 8 9 7 3 Perfetto Come faccio ad attivare la sim Muscolo virgola Che ho mandato un messaggio Carlo Come si accende il telefono Muscolo Fanculo 1 Ah non ti arriva Poi Max dammi il tuo numero Non riesco a fare un cazzo di niente Muscolo invio Muscolo invio Max ma lei per caso Deve Keyboard Muscolo invio Salve a tutti i ragazzi E ben ritrovati su Esacende il bm Muscolo keyboard Ma io non devo entrare nel negozio qui Devo semplicemente prendere il cellulare Ma scusi perché a me non mi dà Ah, scegli un'offerta, ecco perché Scegli l'offerta, Giaccarlo Ok, H1, a posto Ho il telefono Adesso con il telefono che devo fare? Attiva la sim Muscolo virgolas Sì, mi dica la promozione che le devo fare Ok, io ci sono Andiamo via, andiamo a fanculo Lei è proprio un fallito Andiamo via da qua, dai Oh 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 Non mi trovano più Dovremmo andare a comprare Dovremmo andare a comprare una pistola, ragazzi Max, si svegli lei Ma cosa cazzo fai? Che quello non siamo qui qua Ma cosa fa? Volevo fare un'entrata di stile Ma cosa fa? Abbiamo già il sangue nella macchina, per favore Qua ci tracciano Occhio, occhio al semaforo Mamma mia Occhio, occhio, occhio al muletto Sempre con una portiera Senza una portiera deve andare lei Sentite, andiamo a comprare Ma, ehm, già, Carlo Controlla se c'hai soldi addosso O te, se non andiamo a depositare No, no, non ce l'ho Non ce l'ho Guarda che c'è il telefono spento, Carlo Chi è che mi chiama? Ok, a te funziona, perfetto Carlo, c'è il telefono spento Era la mia immaginazione Ma max, che sta facendo Io devo andare a acquistare un telefono cellulare Rattivo adesso? Salve le sim da voi appena comprate Sono state vendute sul deep web Ci scusiamo per l'inconveniente Trovate bene se avete soldi addosso Basta, basta Fai queste cose da falliti Non c'ho più voglia di stare a pressorsi telefoni del cazzo Io impazzisco Vabbè, allora senti Io provo a chiamare Carlo, non faccia così Aspetta, stai qua Max 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 Carlo, ma sei un cafone È un prank È un prank Come si attiva sto cazzo di telefono, virgola La sim, virgola, sì La sim la devi inserire nel tuo cazzo di telefono Oh, ci sono, no, ci sono, ci sono, ci sono Oh, alleluia Ci sono, ci sono Ma max sta bene? Sì, è ritornato Ha avuto un ictus Sa com'è L'exercito, gli steroidi Guardi qua, guardi qua Sì, lo vedo un po' balsamato No, ho fatto un porto, ragazzi, spero che io potessi Mi ha plancato E, Enrico dov'è, Enrico? Enrico cercava la fragola, mi ha detto Ah, la pussy? Stava urlando frago la latta, mi di nuovo, figa Vediamo, vediamo Eccolo, guardalo lì Facciamo il giro dietro e gli facciamo un prank Dov'è, dov'è? È qui, è qui Guardalo, guardalo Ricos Ecco, Ricco Ricco Te l'abbiamo fatta, eh Allora, ho chiamato Ho sbagliato, c'è neanche la pupona Non mi aprono Ho il numero di un drogato che ho trovato ieri Prova a chiamare lui per vedere se ha delle attività Ok C'è qualcuno? Non c'è nessuno Non lavorare in... Just Carlo, ma lei è pazzo a dare il suo numero in stream? 9? Ah, il mio numero in stream? Vabbè, non interessa, non importa Enrico, ho attivato il telefono, eh Just Carlo, la prego per la sua crew Potrebbe andare alla base militare La prego, sto finendo i soldi e non posso più donare Giao Andiamo alla base militare a fare un reportage Oh Sotto Pronto? La stanno chiamando di fare Grazie a Palli Ok, funziona Chi era? Va bene Non c'è nessuno Venite, venite Dovrebbe essere qui Dovrebbe ricomparire qui No Il signor Max Sì Sì Prendiamo la macchina Riprendiamo questa macchina Siamo pronti ad andare così Questa è la nostra macchina La macchina della crew Venite, venite crew Non è più bella quella lì bianca lì a destra No, no Come diceva Max Macchina con stile non si cambia Scusate, è la prima volta che guido Sì Ma la guida con La guida di cazzo Eccoci qua Dovrebbe esserci Max Max, sali su Max Max, sali su Qua ci denunciano, cavolo Ragazzi, voglio il telefono esattamente come voi Non mi riesce però di Sali su, sali su Non ci denunciano Andiamo al vanilla Muscolo keyboards E mi fan culo uno Muscolo F1 Oh, oddio Andiamo al vanilla ragazzi Mettiamo la cintura Dai, vediamo se c'è qualcuno Mettere sempre la cintura Enrico Oh Oh Io vorrei trovare qualcuno Di un po' di importante Che ci possa pushare in città Oh Guarda qua, guarda qua Via, giù nel dirubo Madonna, è barca giù dal ponte Ok, ci siamo Scusatemi, non ho la patente È che ho guidato sempre all'Inghilterra Siete riusciti a recuperare una pistola? No Ma che pistola? Andiamo alla bandita a fare due conoscenze Come fanno a trovare la pistola così? Ok Ragazzi, però Io ho un'idea Scusatemi, scusatemi Unendo tutti i nostri soldi Oh Scusatemi Stavo al telefono Unendo tutti i nostri soldi Potremmo fare insieme una pistola E facciamo le truffe E il gioco delle tre carte Noi tre ci piazziamo davanti E uno compare dal cespuglio E poi ruba la macchina Questo ci può stare Possiamo fare i ricettatori Cosa sono i ricettatori? Ma tanto Ma che cazzo ne so L'hai proposto tu? Non lo sai Carlo Non ti andrà a mentire Che non serve a un cazzo Arbarauto Lo sai Che tutti sono assicurati Se gliela ciulliamo Gli arriva di nuovo Un garage come nuova La gente se ne infischia Dalle auto Eh ma una bella Ferrari Per questa troupe Facciamo i ricettatori Purtroppo Non credo sia possibile Sono i ricettatori ragazzi Per curiosità Vediamo chi c'è al vanilla E cerchiamo un lavoretto Andiamo al vanilla Mi raccomando ragazzi Soprattutto Max Quelle sono le richieste Qui che cosa vuole la città Droga Oh è quella di prima Assicurazioni vantaggiose Bastardo di prima Di merda Besso di merda Sei te Bastardo Sei te Sì o no Sei te Mi sa che Fai il finto stupido Fai Sono in una situazione Vediamo Vediamo Andiamo via Andiamo via Posso guidare io? Sì 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 Grazie Chiara Colpevoli Allora Facciamo i colpevoli Di reato di ricettazione Ragazzi Oh oh Facciamo i colpevoli Va bene Io questa non l'ho mai sentita Però Sinistra Allora ragazzi Soprattutto Max E Enrico Con calma Con calma Vai vai Ma io sono calmissimo Io dico Facciamo delle piccole conoscenze Sì magari Non andare dietro Alla prima tettona Che vedi Enrico Senti Questa è una cosa Ragazzi Io ho dieci munizioni Di pistola Ah hai aperto il medusa Non il vanilla Ma porca puttana Non c'è un cazzo Di nessuno qua Salve Ma il ser Ha vero Antichia Specca di sangue Oh Ma andiamo tutti quanti assieme Meglio non separarci Questa è una città di Bastardi Carlo Erika Carlone Vieni Eccomi Eccomi Via Qua ci sono dei pazzi Andiamo in macchina Come fa Blumotti Oh no La sei Guarda come la stai trattando Chi è Mi chiamo Mi chiamo Giordano Comunque non mi piacciono Scusami Giordano Non mi piace una cosa Incomplete Devo assaltare tutte e due le porte Io subito Acquisto un telefono Just Carlo Ora mi sto innervosendo La comuni ti vuole Il reportage Sulla base militare Mi scusi Oh attenzione No ma che fai Sali sulla macchina Giordano come si chiama Lei nella macchina Perché dovrei dirglielo Scendi Scendi E' vero che nella base militare Ci sono Gli alieni Non saprei Perché non va a verificare Oh si stanno facendo Un blitz Guardate signori E' una giornataccia Lasciatemi Oh ma che Oh questo mi sta menando Oh c'è un coltello Oh questo Oh che vuoi Oh aiuto Ma che cazzo vuoi C'è un coltello Voglio prendere il facciano Oh oh che cazzo vuoi Oh ma Se tu Gaggi mi hai menato Se tu Gaggi mi hai menato Dove scappi Salta su Oh Sta coltellando Enrico Enrico in macchina Mi scusi mi scusi Mi scusi mi scusi ho sbagliato Mi scusi mi scusi ho sbagliato Il cazzo non parire il fagliato Adesso dammi il coltello Dammi il coltello Guarda Pezzo di merda Io oggi ti ho mandato in ospedale Io oggi ti ho mandato in ospedale eh Pezzo di merda Ti ho mandato in ospedale oggi Ammazzalo Ammazzalo ma ha coltellato per niente Non ti azzardare più Non ti azzardare più Ragazzi ragazzi basta ragazzi Non la violenta ragazzi Penso di merda Io ti ho mandato in ospedale oggi eh Questo ci pari Guarda qua L'andiamo andiamo andiamo Ma vi sembra normale Andiamo andiamo Dai che gli aggiungiamo Questo lo ammazziamo di botte Figa eh Sto pisciaturo di merda Lo ammazziamo Lo ammazziamo Eccolo è lui È lui È lui Allora mi raccomando eh Manovra Manovra pit ragazzi Manovra pit È lento È lento È lui È lui Provo a farlo sbandare Vai vai bravo Vai speronalo 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 Dai dietro Scendi Vai 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 No davanti davanti Ci vede davanti Ma questi non si fermano Spara le ruote Ma che sparo Con cosa sparo Hanno fatto un incidente Saranno dritti ragazzi Grazie Alex Bella Bella Alex Bastardo Andiamo al Medusa ragazzi Magari stanno andando lì Siamo persi Da caso E spaccargli Il muso Come stai Che bene Ma mica Ma ha quasi Ssterenato i reni Oh Andiamo questa Lievemente Vai prendiamo un sub Ma sta macchina Fa cagare Via la macchina Via le coglioni Signora Torni a votare Trump Via via Dove cazzo Li troviamo adesso Al Vanilla Al Vanilla Io c'ho il numero Di uno dei due Ma andiamo al Vanilla Andiamo al Vanilla Basta cercare questi falliti A proposito di numero Mi è arrivato un sms Ciao Sono io quello Drogato Ah perfetto Andiamo al Vanilla Falliti Mi ha staccato No al Medusa Non al Vanilla Scusate Mettete il punto Avete messo il punto E' qua di seguito Al Vanilla Medusa Il punto Non c'è Non lo vedo io Lo rimetta gentilmente Sì Aspetta che lo trovo Oh oh Attenzione ragazzi C'è uno che sta portando via Una macchina E' un carro Io le faccio Stappare il passaporto Grazie casa Dai Ti ho messo il Medusa Sì sì Anton Giuliano Sì sì Non ti preoccupare Ti faccio Stappare il passaporto E' affare in culo Ma chi è? Con chi sta parlando? Al telefono Ho telefonato Sto pezzo di merda Oggi mi voleva fare secco L'ho distrutto di poche Ma no me ne frega un cazzo Il passaporto Io voglio vedere le sue Della Per terra È chiaro? No no E' un ricco Attenti Carlo Quello mi ha coltellato Già scarlo Già scarlo Si chiama Io da con un mignolo Si chiama Euroaldo Euroaldo Ok Qua in versione ad Ux? Yes No In versione ad Ux? Mi dissocio No ad Ux Io mi dissocio Poi vedi Parlavi di sbudellare un tipo Fino a un minuto fa Esatto Ah ma il vanilla è proprio sulla strada Come i Possiamo scendere di qua Ma scendiamo C'è uno che ci ha provato Non possiamo scendere Che bello il suo Quella tecnica tartaruga Grazie Ricky Con velocità Un po' di rincorsa Mi sa che ce l'ho fatto Esatto No ragazzi Non è prebito Dai Meglio evitare Di fare queste piccole cazzate Facciamo Persone serie Va bene Però intanto In contromano Persona seria È prebito Adesso andando in contromano Da mezz'ora Almeno non mi cazzano Dalla città Così dai Io sono un civile Ma mi ha rotto i coglioni Ci porti dove c'è il contenuto Ma non faccio il caffone Già scarlo Però ogni volta Stico incredibile Si già stiamo andando In un club di periferia Sotto la tangenziale Cosa Chi vuoi che ci troviamo Ci troviamo Sprengente strade Puttane Ma qua c'è tutta una zona Guarda che case da falliti Che cottage di merda Che da falliti Sono belli Ma no Ma qua Ma questa è una zona Alto locata Ma no Più di cottage di merda Guarda qua Non riusciamo a scendere Ma allora che cazzo Stiamo facendo Stiamo salendo Cottage Quelle saranno Ma come cazzo Ma questa è questa Ma questa è l'uscita È questa Ma ci siamo in paragattolo In paragattolo Perché non riesco a scendere come gli altri Salve signori Seguitemi pure Se ne stavano andando Stavano abbandonati Abbiamo già il tavolo Se volete ve lo preparo Grazie Grazie Visto che andare con lo streamer conviene Che si fa qua Si lavora Si magna Signore Si lavora Che caso significa Che bellissimo attuario Che bell'effetto Eh signore Ultratrasparenza Ah abbiamo lo youtuber qua Ah si si Ecco Sto facendo un po' di Salve a tutti ragazzi Sono Carlo Jazz Carlo Sponsorizzi il locale Sponsorizzi Come si chiama Benvenuti a questo Medusa locale Bellissimi In una posizione bellissima C'è regalata una bottiglia Ma comunque Allora signori Sedetevi pure Se volete Regalateci una bottiglia Un'armante Ma questo locale è vuoto Perché è vuoto Eh signore Abbiamo appena aperto Provesciuto Ah ok Ok Ma dopo c'è figa C'è puppone Eh c'è anche figa Signori Che balla Ma siamo come in quei locali Che la gente dice Bellissimo Tranquilli tranquilli Quanto costo un drink 15.000 No signore Ma ce la regalate Una bottiglia Che vi stiamo sponsorizzando Venite tutti al Medusa Locale pieno Sentite un attimo In quanto abbiamo dei problemi No Nelle persone Visto che abbiamo Uno youtuber Ma Una pistola Ci potete dare Un coltello Possiamo acquistarla Adesso parliamo di affari Carlo forse un po' questa telecamera Del cazzo Che qua parliamo di affari Eh stacca la live Stacca un po' questa Ragazzi ho problemi di internet Ci vediamo dopo Salve Venite con me Allora Innanzitutto mi presento Sono Giordan Fagiano Edward Smith Signori Salve Piacere tutto mio Allora Non le andrò a negare Che siamo nuovi in città E ci servirebbero Un po' di sicurezza Visto che è pieno di pazzi In questa città Che vuole E cosa le fa presupporre Che io abbia Guardi Lei è proprietario Di un locale Credo che i suoi buttafuori Siano ben fogniti Di un locale Signori Magari E quindi con chi Stiamo parlando Ah Il proprietario Chi è Il mio capo Possiamo Facci parlare Col tuo Possiamo rivolgerci Rivolgerci a lei Magari Anche lei Ci può trattare bene Come si chiama Mi scusi Edward Smith Edward Spiegano Ci servono Ci serve qualcosa Di protezione Non per uccidere Dobbiamente Ma per proteggersi E per difendersi Un po' Autodifesa Guardi Oggi sono stato accoltellato Due botti E solo perché sono a replicarlo È stato accoltellato Al torace Enrico Andate In ospedale Vi fate il certificato medico Poi andate in armeria Vi fate il coso Il balistico Guardi Grazie mille Ma non mi serviva Il suo aiuto Allora Guardatemi qua La prego Le sto baciando i piedi Tutte queste fatiche Burocratiche Le consigli Suoi C'è quello che intendo Le sto baciando i piedi Per favore No signore Non mi faccio Cascardo Non si riduca a questo Intanto Prendete pure Posto Arriverò a darvi A prendere le prenotazioni Signori Ma quindi non si può fare nulla No A riguardo di questo No signore Non sono un armaiolo E ha per caso dei contatti Qualcuno che possiamo sentire No Ci hanno trattato male Possiamo anche andarcene Non l'abbiamo trattata male signore Con tutta la cortesia L'abbiamo L'avete preso a pesci in faccia Non è successo Ma non credo Non credo Io sono un signore A me è sembrato gentile Non ci puoi aiutare Ma è stato gentile Dai Non fate Per l'appunto Se volete accomodarvi Vi porto da mangiare Ma posso dire Posso dire Sì la metto Eccoci Siamo di nuovo in live Io non sento quel bello odore di pesce Che mi lascia capire che c'è figa Carlo Non riprendere Max 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 Non ti stai riprendendo Allora Allora Dovrei dire di metterci qua Sì Il privetto Lo voglio tutto Il privetto 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 Muscolo Z Questo locale fa po' cagare Sì Sì Non c'è figa Non c'è figa Siamo sempre i soliti quattro cazzi Non c'è l'assenza di figa Max Lei si è seduto sul tavolo Sì Sto anche scorreggiando Su questo tavolo No Dai ma ci arrivano Quei Bellissimo Bellissimo Che compagnia Wow Che divertimento Ottima musica Sì Woohoo Woohoo Yeh 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 In top Grazie Vankere C'è ma in top Ragazzi Yeh 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 Oh Skirt Ditemi pure cosa volete Sgrang 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 Ma un cocktailino C'era qualcosa da dimostrare Guardate guardate Ho Ho Io un Moscov Mute Ma mi può mettere una hitza club Beh qua Eh non vorrei avere problemi signore Non hai problemi Vai tranquillo Riesci a portarmi un Moscov Mute Ne assicuro Non ci sono problemi Quanto costa una bottiglia Portaci Ci metta un hitza club Sgrang 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 Grazie a tutti. 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 Vi serve altro, vi porto altro. Aspetti, aspetti. Si può fumare, no? Si, faccio pure, ci sono le ventilazioni. Ah, sono un po' la riso del tabacco. Ah, mi streccio un po' la schiena. Max, vuoi vedere un attimo in bagno a favorire? Se ce l'ha, se ce l'ha lei? la prossima, la prossima, la prossima, la prossima... faccio un'altra, la prossima, la prossima, la prossima, la prossima, la prossima... piano, la prossima, la prossima, la prossima, la prossima... Si trattano, si trattano... Si trattano, si trattano, si trattano... Si trattano meglio, non ci avevano di che armi, poveraccio. Andiamo al vanilla, che... Ma sapete dove possiamo trovare delle armi? Vi ho messo il punto. No, andiamo al vanilla, andiamo al vanilla. Ma è detto che andiamo qua dopo, che io ho pagato una bottiglia. No, ma è qua vicino, è qua vicino. Vi ho messo il punto, lì ce l'hanno di sicuro, secondo me. Ma che cazzo hai messo il punto alla stazione di polizia, Enrico? E lì ce l'hanno le armi. Andiamo al vanilla, che è qua accanto. Andiamo, andiamo, ragazzi. Non le andremo a mentire, Enrico, ma lei... Ma è già là, porca puttana. Andiamo al vanilla, sinistra, sinistra. Allora, mi raccomando, Danilo, facciamo un drive-by con calma, con i finestrini oscurati, che così non ci riconoscono. Piccolo drive-by, così vediamo che gente c'è. Che cazzo hai già, Danilo, è qua. Entrata secondaria. Ecco, proprio che non ci riconosco. Non mi sembra che non ci riconosco. Ok, vedo solo braga. Entriamo dentro, entriamo dentro senza parlare. Vediamo se... C'è uno che ci segue. C'è uno... Guarda, là, va. Cosa? No, è un jogger. È un jogger. Stai cercando i tuoi pantaloni? È un scemo! Andiamo a insultare. No, è un jogger. Ma sei mutande? Che volete? Ma che locale orrendo era peggio del karaoke ha già in a town. Zero tipe poi. Qualche problema? No, le facevamo notare che è mutande. Eh, no, lo so. Sfigato! Arrivederlo. No, ma che cafone che sei. Oh, la pistola! Porca puttana! Ma stiamo scherzando? È una pistola per così poco. Andiamo al vanilla, prego. Entriamo... Ma poi è pure in mutande. Entriamo, entriamo dentro. Entriamo dentro. Ma ce l'aveva chissà dove ce l'aveva quella pistola. È infatti quello che dico io. Che schifo. Allora, parcheggiamo qua. Ah, ci sono i Ghostbusters. Entriamo, entriamo. Ah, ma quello che ha la pistola ce la può vendere. Sì. Ammazzo. Ammazzo. Grazie, per ti. Nice and team, ragazzi. Nascut, nascut. Al vanilla, che figa, RSS, KS, 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 KSK. Dov'è, 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 dov'è? Ok. Eccoci. Siamo tornati in live. Siamo tornati in live, al vanilla. Eccoci. Solve, solve. Signorina Guarda questo caffone Guarda quello io No 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 È bannabile È bannabile Ma che cosa fate voi Ma questo Ma quello è impazzito Ma gli ha messo la testa in mezzo alle gambe e hai tirato un cazzotto Ma che modo è No snocchio bomba Oh le mutande Perfetti per le mutandine a blu Comunque ma scusa Ma che sta facendo Ma mi scusi ma che mi stai prendendo Ma siamo in live Ma ha capito Numerino del panino 150 Ah lei fa panini signora Oh madonnina Signora fa panini Signore ma lei è stato morso da uno zombie Sì faccio panini Però se vuole le puoi fare anche lei Sì 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 ragazzi Riprendo uomini nudi Per la mia community gay Quando il tetto è rosso la cantina è bagnata Oh voglio fare il privato Grazie rabbo E dico guarda che bel uomini è bello zombie gay Ma ce ne vada Ma ce ne vada Questo è il nostro privato Ah ma scusa Ma ce ne vada Allora Tutto pigliato male Vai ti accompagno maxone Carlo rimaniamo Ma che ne sace Rimaniamo Rimaniamo Facciamo un po' di interviste Salve Buonasera Chi è lei Sasa Sasa che bel nome Dove ci chiama Dove ci chiama Sono caravanzalei Mi scusi Non lo capisco Non lo capisco Sono qui davanti Che è Weibo Volevo fare un reportage Sono di report Ma dica Com'è la figa Troppo buona un sicchio Ma ci sono delle stripper sottopagate Mi hanno detto in questo locale A parte che mi disso Risponde lei Risponde lei Poi se vuole può essere lei la stripper sottopagata E con questa la bruciata Carlo che è locale di Zanza Questo base militare Ma guardi Allora Ma qua caparra Avete Ha una radio nel culo Guardi Lei non mi può dire niente Con questo outfit Molto basic Ma vuole legnate Ma che legnate Ma stiamo fermando Ma che legnate Che fa Lei già mi ha dato un pugno poco fa Eh te ne è arrivato un altro No No Sia calmo Sia calmo Siamo calmi Oh No Oh 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 Rissa da marra Oh Rissa da marra Rissa da marra A terra Stupido Ma che cosa Ma che succede Andiamo andiamo Che succede Fermo si fermi No come Si fermi E spende a quell'uomo che sta scappando da tutti quegli altri uomini Dov'è Chi è Io prendo tutti eh Qua destra qua destra Questo col vestitino Che cazzo vestitino Questo nella smart Senta fermi Senta fermi Senta fermi Appena Appena andando fermi a moto Peggi a legnate Sì Scendi dalla macchina Uno contro uno a mani Pezzo di merda Scendi Aspetta Fermala Fermala Ferma l'audi Ragazzi Spermate base militare A just caro Vai scendi Uno contro uno a mani Uno contro uno però Sì 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 Dimmi quando sei pronto Vai quando vuoi A mani Ah ma lei signore che tu cacceressi oggi i belli capelli Ah Aia Aia Arroso Basta basta No 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 Basta basta Stop stop Non devi ucciderlo Basta per favore che mi bannano Aia Basta 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 Scappi Andiamoci Combattente Anthony Joshua mi chiamavano Porca troia E che combattente Sì sì Vai prendilo No 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 Basta 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 di merda No fermati Polizia Polizia Ho fatto secco Ho fatto secco Entra in macchina Basta di merda No Ho fatto secco L'ho fatto secco Ma non devi fare lo secco No No Pezzo di merda La portiamo all'ospedale La portiamo almeno in una zona via Andiamo andiamo Carlo entra non me ne fai un cazzo Ma lei è un pazzo Io non voglio stare con lei Ma chi con me? Ma Carlo ma ti ho difeso Mi hai messo in mezzo a una guerriglia Ma sei tu che hai iniziato una guerriglia come al solito Guarda che quello ti ha dato un pugno in testa Che è successo? Al momento ti rubava l'attrezzatura per le live Sì ma anch'io ho dato le mie Poi io sono andato via Ma non mi interessa Eh quelli ci hanno caricato Carlo Ma qua siamo in territorio nemico Ah dobbiamo tornare al vanilla Che Max è tornata lì Sì Un attimo solo Ma ragazzo dito Ho visto Carmato Ma te ci sei per trovare delle armi Che armi Ah E ne parliamo in macchina al vanilla Adesso andiamo a prendere gli armi No al vanilla non ci parliamo Perché fino di c'è Oh cazzo questa zona No qua non è Qua ci amassano è Sì qua ce ne andiamo Adesso andiamo a prendere Max ed Enrico Ok Ehm Chi sono Max ed Enrico? Eh sono dei nostri amici Ma non è questo Enrico? Dove è Enrico? Lei ha detto prima Enrico No questo è Carlo Just Carlo Ah scusate Just Carlo Oh no Ma quello è un trance Salve Salve Lei è quello di oggi Ciao bella gnocca No Scafone 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 Sbambai Carlo 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 Va via da di guarda Qua sempre a botta Ma questo è pieno di sangue Ma cosa ha fatto? Eh? Sei pieno di sangue? Eh tu lo stesso lo sapevi? Voglio sapere Eh niente Faccio il macellaio di lavoro Ah interessante Vuoi che ti smaccia il biribongo? Oh No Ma qua dovevamo stare Carlone Oh entra in macchina Carlo Pate uno e perquisitelo Per vedere se ha la pistola o la base militare Abbiamo trovato un contatto Ah Noi Noi abbiamo Sì Prendiamo Prendete anche l'altra macchina Aspetta Ma questi ce l'andano con noi? No no Pronto? Chi sei? Carlo Carlo Prendi l'altra macchina Uno che vada in macchina con Carlo Facciamo un bobo 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 Che cazzo vuoi? Vuole fare un bobo Vieni Carlo Eccomi eccomi No catcalling eh Che siamo nel 2021 Let's go Ma sbaglio era quella che ieri aveva i capelli viola Il macellaio Ciao banda di coglioni Chi sono i miei followers? Sì Dico proprio a voi Pezzi di merda Vuoi dire? La tata non me lo bella nel carletto eh Ok Volete vuoi dire per favore Max un punto esclamativo prank? Max Un punto esclamativo prank Quindi? Che cazzo vuole? Che cazzo vuole? Dove sta il mio amico? Che è? Dove sta il mio amico? E chi cazzo vuole? È andato al supermercato Oh Max ma c'è l'inversione in secondo me Dove stavo? Sì sì Oh bastardi Ah che palle questa senza portiera Come senza portiera? È quello che sta inseguendo gli altri Non possiamo parlare del nostro scambio Allora vedi di sapere Max che il nostro amico è armato No È la madonna Quando noi abbiamo Ma perché dobbiamo Perché dobbiamo avere sempre la macchina più di merda Max con lei Ma questo è lo salario di Warzone Guarda se ne va sto cagasotto Vai Fatti vedere Allora Max Max Oh Col terrazzo Abbiamo trovato questo ragazzo Ci può fornire una pistola Meno male che Ce le fornisce un paio di pistole Ti paghiamo Oh alleluia Oh Meno male Però allora No ammazzate uno e perquisitelo per vedere se è armato base militare 9 Sto aspettando Sì guardalo Guardalo lì guardalo lì guardalo lì Guardalo lì guardalo Dove io non lo vedo È lì guardalo Ma dov'è? È lì con l'ho rotto in culo Questo ci spara eh Oh c'è la pistola Oh cazzo Sta sparando Sta sparando Sta sparando Sta sparando Sta sparando a caso Vabbè No ma che via Siamo a cinta Ma sta sparando Ma sta sparando Noi non abbiamo un cazzo Prendile Prendile e buttalo sotto Quindi Ci stava sparando Ci stava sparando Ma da dove? Non l'ho visto Ragazzi facciamo il giro del Cazzo Mi ha forato la gomma Noo Dovete cambiare auto Veloce 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 Cerco una Oh Fammi guidare Carlo Vai vai Prenda una macchina Prenda una macchina Ma dov'è il tizio? Dove è che lo non ci sparava? Sentite il boys Eccola 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 la macchina che cercavo Eccola Al top Mi scuso Un po' una merda Questa eh Ma Oh Qui tu Carlo? A posto Ah no Ok Oh Andiamo 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 Let's go Si lo so che devo prendere Q Questi ci devono aspettare con questo bocchino Ecco Io ho già perso Uguale Grazie Grazie Kermit Vuoi fare un saluto a Kermit Che è il mio nuovo primo subs Della mia live Bravo Kermit Bravo coglione Allora No Si è rotta Mi sa che dovremmo prendere quell'auto lì Aiuto 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 Dove è Max Ho visto andare Max Alla fine ritorni sempre con la tua due ruote Io amo le macchine Loro amano me Bisogna che chiamiamo Eccola Vuoi il loro numero? Sono dietro di noi Entrati nel negozio Nel negozio Sono da No Si No Ecco questi sono questi Ragazzi Siete voi? Oh via 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 C'è quello con la pistola Siete voi? Per cosa? Per quella cosa? Sono stato tanto in ospedale In questo ultimo periodo E sei stato l'unico Che mi faceva Grazie Grazie Hai il numero di Enrico Grazie Pep Ti Pep Pep Ti Poli Dico Sentiamo Origliamo Odigliamo Odigliamo Che c'è un posto che si chiama Life in butter Signori avete una pistola da vendere per caso? Ma che pistola signore? Che pistola che noi stiamo con le pezze per culo signore Posso vendere un lupino? Eh a posto per quello Mi è due sozizia se volete Lo vedete questo? Cosa? No Che? Ha 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 Quanto sono fighi i prank Ha 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 Ma Ma Max Noi ci secondo me Oh oh Noi secondo me ci dobbiamo mettere Con calma In un posto calmo Ad origliare Ciao ciao Oggi è venuta a mancare mia zia Allora posti calmi Grazie Grazie Da quando sono in città che vedo casini Casini Non mi cade allo sguardo Potremmo cercare di recuperare una pistola finalmente E dai No Prima si pensava che forse Il dealer delle pistole è corrottibile Se gli facciamo magari una buona offerta in denaro Ok Anche senza un porto d'armi Stiamo a vedere Chiamo Enrico io eh Prova prova Enrico Stuto Mi idea Enrico non scuida proprio il telefono Forse gli è successo Forse gli è successo qualcosa Eh potrebbe esseri successo qualcosa Oddio non mi fido di questa zona eh Non c'è problema dovrebbe essere qui in teoria il Lo spaccio di armi Attento e attento Attento Max Ma dici di attivare la live? Sì sì non c'è problema Oddio Magari in armeria no Ah Gio Dici Eh sì Non so se le armi sono bannabili Oh c'è qualcuno Oh No non riesco mai uscire cazzo Allora con calma Con calma Valde buonasera Noi si voleva comprare Ma non vedi che c'è la fila Max Ah scusa Si è ragazionato E qua è servizio dice No credo che sia la cassa del mio A parte la macchinetta all'ingresso Tu portazzo ieri facevi fotografia No no Pronto? No Poi lo so Invece si Benvenuti live Benvenuti live Vi ho fatto una foto di gruppo Si si Yeah 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 Oggi sono qua per Per autodifendermi Vorrei comprare un taser ragazzi Esistono i taser? Si Meglio questa ombre Questa è molto tali Ma io non voglio uccidere nessuno Spero che non mi spari Ma non voglio uccidere nessuno Non voglio sempre taser Non è scusi Tutto me la norma Allora ragazzi Se si d'accordo facciamo prima ai signori Va bene va bene va bene Ragazzi ci aspettate un attimo fuori poi Si si Può abbassare questa musica del cazzo? Beh signore che deve fare lei Ah scusi Allora dicevamo Se ci muovo un attimo Non so se posso parlare liberamente qui però Beh Io e i miei amici Si 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 cercava di acquistare un'arma Possibilmente Evitando tutte le lungaggini burocratiche Se capisce quello che intendo Si però non è corteso di chiare eh Ah non stiamo morire lì Ah vabbè Se volete Signore posso Posso impicciarmi Se hai fatto altrui Difendo E' che lei gira con delle tiglie? Eh io sono youtuber Max è il mio manager E abbiamo bisogno di protezione Perché ogni volta incontriamo elementi strani Sa guardi guardi eh Tanti mesi di attività Non ho visto le persone Ma lei Eccoci Vede 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 Vedo vedo Quindi dicevamo Noi si cercava di acquistare degli oggetti per l'autodifesa Mette in posa E via Splendido Ma sono youtuber Non un fotografo eh Mi ha scambiato Io ho un problema di instabilità mentale Carlo è troppo gioco Quindi segnerà una faccina che imprega E' un problemone questo Questo è un problemone Perché qua La polizia gira Gira Quindi mi diranno se eventualmente E' stato venduto le cose Se eventualmente le trovano con la pistola Leggono il numero di matricola sopra la pistola E praticamente poi rischiamo che Quella proiettile che alla fine è di plastica Vada a finire in qualche pertugio Se voi vi girate Vedete un proiettile molto grosso Dovremmo evitare che Quel coso lì Vada a finire in qualche Orifizio Ho capito Beh Albe 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 Fì adesso caro un attimo che stiamo finendo noi di parlare Ma lei è un poliziotto? Io? Sì Sì o no? Ma questa è bigiotteria Ah ok Grazie per gli 80 euro Jokop Quindi Quello che Quindi Casino Ehm Non dovevo Grazie mille Grattare via Grattare via Grattare via Grattare via Forza Se fosse possibile Io Sarei in grado di Come dire Beh signora Le dico La sincera verità La verità Facciamo una roba senza fattura capito? Sì ma a parte la fattura Quella non è che Qua molto spesso vengono persone che purtroppo Il pezzo di carta non possono tenere Se noi vendiamo così le pistole a caso A tutti Grazie mille Ma mi scusi Mi scusi Mi scusi Ma è già un casino Ma Non è un casino Perché alla fine le pistole non sono i panini E sono di fondamentale importanza Quindi noi dobbiamo purtroppo vendere Ma qualcosa di più leggero? Quale fosse più leggero c'è? La voglia se c'è Sì Io alla fine parlavo Di base di qualcosa per autodifendersi Tipo quel taser lì per dire Il taser bisogna andare in centrale della polizia E loro lo rilasciano Sempre Ok E invece una lama? Come lama noi ne abbiamo tre Ok Il contello a saramanico Il pugnale che è quello lì Sì E il macetto Come lame Poi abbiamo la mazza da baseball Ok Quali di queste non richiedono il porto? Tutte Tutte Ok Tutte non lo richiedono? No Altri oggetti che non richiedono il porto? Mazza da baseball? L'immagino che non lo richieda La torcia La torcia Poi non richiede almeno il piede di porco Ah Quello per togliere i chiodi Sì 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 E non richiede nemmeno la torcia La torcia non ce ne frega Dai prendiamo Per la nostra difesa personale Due coltelli Quale? Il pugnale oppure quello lì a scatto che esce la lama che è figo? A scatto io Io prendo il pugnale 1-1 1-1 1-1 10-10 Ma la polizia come ce lo dà il taser? E bisogna andare in centrale di polizia E loro se ritengono opportuno rilasciare il porto taser danno il taser Ah potremmo provare Max Proviamo 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 Non so ho paura di fargli una scenata No no Non fare solti le scenate Ma lei è il mio manager d'ora in poi È il mio manager lo sa? Ok Ma io che mi ricordo io te li do Ah Cosa? Prendete carta? Accettate carta? La carta di credito? Sì c'è il forse qui Venga qui che in modo li faccio strusciare con l'MFC sopra il tablet Venga venga Vada 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 Max Paghi anche per il suo assistito Max Eh sì Allora le dico in anticipo vengono 15.000 tutte e due Ma va bene Se diceva 10 non riesce a farci uno sconticello 25.000 e tutte e due 25 andiamo in più sinceramente Ah ok scusi Deve fare una sottrazione e una moltiplicazione Facciamo 10.000 tutte e due Un po' tanto 13 14 13 Immaginate Ah 12 Ah è andato Grazie mille spero di non essere scammato Nel frattempo tieni questi due euro Grazie Prego prego Il colpella seramanico a chi era? Il signore con le pinne A 253 A 253 A me a me il signore con le pinne A già schiarlo Già schiarlo Già schiarlo Già schiarlo Ora lo deve usare Lo deve usare Lo devo usare? Deve usare sì Aprire le tasche Io preferirei non usarlo proprio qui No usare nel senso prendere in mano il colpello Ah ok Come faccio? Grazie Jack Ok Direi che ci sono Come faccio a usarlo? Scusi? Deve aprire le tasche è usarlo Eh l'ho già fatto Poi dopo? Dopo il muscolo tab Non mi chiede che muscolo è del corpo umano ma esiste Sì lo so lo so ma L'ho già fatto l'ho usato Ah aspetti aspetti Muscolo a rotella Un altro muscolo che è in questo senso Sì un attimo ma finiamo Oh ragazzi m'ho fatto eh m'ho fatto eh Mazzini tanto io devo comprare solo una mazza al cortale Ecco la Attenzione che ho il Ah giusto la mazza è quanto vuole Ah 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 Potresti cortesemente salutare Lorenzo Buzzi, Donald Trump e Alessandro Ambrosini Sì grazie ragazzi Grazie Lorenzo Buzzi, Donald Trump e Alessandro Ambrosini Grazie grazie Quattro Grazie ragazzi, grazie per i dieci euro che vi troverò a ridare Volevo donarti un centesimo ma te ne dono uno passibilità Ma nel momento che abbiamo preso due portelli devi farci sempre uno sconticino Un cinque magari Oh guarda, guarda Oh Gli faccio uno sconto Oh Oh, oh, oh Dai dai ti prendo la mazza Ti aspetto fuori eh Sì ma Sì ho le pinne, ho le pinne Eccomi Ragazzi Ma buonasera Guardate cosa ho comprato Hop hop Ce l'ho anch'io eh Hop hop Piazza te Ehm Se non volete sprecare altro tempo vi do liban Cazzo d'alieno per te Se no andiamo, andiamo tutti Allora vi volevo chiedere due cose, ci sono gli alieni nella base dell'area 51? No No Sì valli a cercare Dai dove volevo chiedere questo, avete per caso delle fonti? Fonti interne per proteggervi? In che senso? C'è una fonte d'acqua calda laggiù in fronte se vuoi Una fonte di protezione Come mai vuole protezione? Perché Faccio I video sul tubo Ho fatto abbastanza casino Hop 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 Potresti irritarmi i soldi che dovrei andare a donarli a schiara Hop hop I video sul tubo No eh Io l'ho fatto nel servizio fotografico però Ok Poi andrò a fare di là Siamo facendo un po' di attività Bravissimo Bravissimo Continua di avanti Dai Pronto? 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 Non ti sento? Pronto? Pronto? E' solo al telefono Pronto al telefono Eccomi Chi è? Ah chi? Oh Vieni Carlo Ah sei tu Hai fatto? Arrivederci ragazzi Come si risponde al telefono? Come si risponde al telefono direi Pronto? Pronto? Hai risposto? Sì ma nessuno dietro parla Pronto? Pronti? Pronti? Pronto? Oh eccoti Oh perfetto Senti Carlone Non ti dico una giornata di merda Ho fatto un incidente bruttissimo per un piccolo errore Dove ti trovi? Mi trovo all'Armenia ma ce ne siamo andati che c'è la gente che ci ha fatto brutto Eh Ok ma adesso dove sei che ti raggiungiamo subito? Ci vediamo al Vanilla Al Vanilla? Va bene Va bene Un saluto Ciao un bacio Ci vediamo al Vanilla? Si è quello del piccolino di Enrico Adi al Vanilla E vi faccio vedere i nostri nuovi pezzi Yeah Vado un attimo guarda Orino un attimo in macchina eh Arrivo Mamma mia che schifo Calma Ah Cazzo Mi scivole il piede sull'acceleratore se mi pisci di fianco Ok Tutta la mano Viva il gingerly non ti puoi dissociare Viva il gingerly non ti puoi dissociare Viva il gingerly non ti puoi dissociare Carlo Ho finito di pisciare? Eccomi eccomi Allora Max Scusami quando Orino mi viene da stare muto Si ma potevi anche evitarmi di pisciare tutto sul... Ma te scusate io non so Mi pensavo che fossi in amante delle golden showers Che schifo No no Non mi piace la mano Allora appartati un attimo Appartati un attimo dietro Mi viene usata un'idea geniale Ma geniale per fare i soldi Ah sono ancora in stream aspetta Ok allora io la chiamo la truffa del pilone Senti qua senti a me Allora la truffa del pilone Eh la truffa del pilone Allora andiamo al garage centrale Ok Ci appostiamo Ha presente che il garage centrale è dietro Ha tipo un parcheggio interno Si Allora uno Siamo in quattro no Uno fa la cavia Uno che non ha i coltelli fa la cavia Dice aiuto aiuto Ha un povero ragazzo Un povero ragazzo che sta da fuori Noi siamo nascosti dietro i pilastri Dice aiuto la mia macchina rotta Per favore venga dentro Appena la vittima viene dentro Lo accoltelliamo e ci facciamo dare tutto Che voi ti sembra come idea? Beh se lo accoltelliamo mi sa che ce lo prendiamo tutto Esatto ci facciamo vedere con i coltelli Diciamo o i soldi o la vita Come le sembra? Mi sembra una buona idea però rischia di agitarmi come situazione Non so se dopo sarei in grado di Farmi rilasciare il porto d'armi dalla polizia Però si può tentare Pronto? Ho sangue freddo Salve Che stile Sì che stile Grazie E' bellissimo Ma cosa è me? No no mi scuso mi scuso Era una gag Anch'io anch'io Ma il buon Carlo non era qui? Beh oddio è il buon Enrico Eh sta arrivando sta arrivando Allora aspettiamo Ah facciamoci un cicchetto dentro Sì sì Buona idea Buona idea comunque Occhio I fari Io te l'ho detto dovresti Oh Non a me Salute Grazie grazie Ho digerito ho digerito ho fatto una mossa digestiva Come fa capire con le pinne scusa? Sono youtuber Scusi ma l'amico vostro in prima? Eh mi ha detto che è morto per un incidente stradale nell'ospedale E io lo collovo Ah ma vedi quello che aveva la macchina fica Eh sì Grazie Cacciofino Ma che fa sniffa? E il mio 17 di entra dentro la tua destra Mi scusi è il telefono Ma le P come lo chiamo da un po' Carlo Ho pensieri nella testa Avevo un'altra cosa ci ne mosca Allora guarda Come ci va a rispondere? La fileria Ciao Ma che fa Grazie Cacciofino Grazie Cacciofino Grazie Cacciofino Grazie Arken Allora abbiamo Ma scusami Damiano ma lei è sempre più messo male Ma sembra un morto uscito dalla tomba Ti sei visto Carlo? Ti sei visto Carlo? Ma ce ne andiamo via da qua? Ma te chi sei? Ma tu mi hai chiesto un po' di battoria dove si può fare Ah no come ti chiami il nostro amico? Io? Si Guarda Mohamed Guarda qua Mohamed te ci troffi Guarda qua Enrico Che cosa vuoi fare? Ah è un coltello a farfalla Ah Mohamed dacci un coltello anche a noi Ma io non lo vedo Dacci il coltello Mohamed Ce l'avevo anche per noi? Eh l'ho preso proprio prima Che? L'ho preso proprio prima Oh! Eh ma dove l'avete preso sto coltello? Io ci ho Io vi posso dare un teaser No il teaser lo gradirei molto Ma è un coltello dove lo si può procurare Già scampo All'Angria All'Angria siamo andati Ma venite 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 un attima No sei il ceserino Al volo prenderemo in me 2 2 No andiamo a prendere un cazzo di coltello Il ceser non fa un cazzo Ma scusa ma vuole una mamma Oh sono ancora in me A certo pare Già scampo entro Un palo e mezzo Grazie comunque Mohamed eh A rivenderci No hai sentito Ho sbagliato Allora Vada al garage centrale Grazie 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 Vada al garage centrale Porto d'arma E poi No vada al garage centrale C'è la truffa del Facciamo la truffa del pilone Vada al garage centrale Si ma un coltello anche a me c'è il mio Ma aspetti vada al garage centrale Non facciamo gli egocentrici A me a me a me E' di tutti Poi mi sta chiamando il drogato eh Vai al garage centrale Eh sanno la garage centrale Pronto Oh piano piano Ok perché Venite dietro Venite qua Che ve la spiego Eh sono E' grico Ci siamo conosciuti Oh oh Attenzione Dico de puta mamma vega Attenzione Che è questo che guida Guardi dietro Scusi Scusi signore Ma è il suo amico che ha investito Non io Perché c'ha le pinne? Basta Sono noi youtuber Porto un clown Cazzo Perché ora ci fa con le pinne di qua Cosa ci fa con le pinne di là Cosa ci fa con le pinne di su di giù Basta Ok Guardi Allora Max Eh A me il piano l'hai già spiegato Bisogna che lo spiega Esatto guardi Ci mettiamo qua dietro Muscolo Q Allora 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 Lei deve portare una vittima qua dietro Che la rapiniamo Oh Eh Giascarlo Un'ultima cosa Noi innanzitutto dovremmo acquistare questo Sigiri 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 un attimo Dove l'hai acquistato quello? Sigiri Allora posso dirvi una cosa No no Fermi un attimo Allora dobbiamo acquistare un passamontagna Poi te Shhh Sì? Ah ok Non ci si può giocare in pace? Qua signori 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 Si Lì ci sono persone a terra Non è che sono vostri amici No Chi? Chi è? Max Guarda guarda vieni qua amico mio Porca butana Ma chi è sto fallito? Ma chi è sto fallito? Non quello non quello questo qua questo qua Oh mamma mia ma che cazzo avete combinato? Ma chi è sto fallito? E' Rico? Con le Balenciaga si fa investire Poveretto Poveretto Ma come sta vestito? Guardate di solito al paese mio si fa così per onorare i morti Beccati sto culo Beccati sto culo Trimo Signori Ragazzi potete chiamare un'ambulanza mi sa che l'hanno investito in detrofaccia Ma vuole si fare un po' di lina? No no già mi sono ammazzato prima con le metanfetamine Come? Ma sta sotto effetto di droghe lei Ottimo signore No 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 Scusi Carmi carmi No no mi scusi mi scusi Non l'ho fatto apposto sul serio Ma le ve levate era il cazzo dietro portano No Dove andate Max? Ci deve andare via Max pezzale E aspetta arriva Aspettiamo che il culo ne lo dico Aspetta un attimo Ragazzi ma se mangio la mia salute migliora Oh 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 No 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 Ma che sta da fa' Occhio occhio che ci muore altra gente Bello mio Oh Ci giochiamo qualcosa che ti faccio fare un volo incredibile fuori da città Se non la finisci Ma mi veniva addosso lui Eh ok E mo cazzo pure lui Aia Per cortesia Beccati sto culo Sì 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 Grazie Ora c'è ancora i venni a Skyline Assolutamente sì caro Ma che posso Dopo passo Domani 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 Aia Uè Nico Pandetta Faccia attenzione eh Sì ma se vi legate davanti Uè Nico Pandetta Cosa Ehm Ma Signore Ma che si vuole levare queste pinne Uè Trimo beccati sto culo Oppure Beccati sta pinta Beccati sto culo Ah ah Trimo Pepepe Daniel 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 Come fu non c'è sto telefono Andiamo fra di lì Ancora questo telefono Ragazzi ma c'è un motto Non mi sembra il caso Ah Mi fa vedere il culo Però col telefono no Eh ma è una tradizione Di famiglia Ma anche questa era una tradizione Di famiglia Usare il cellulare davanti ai morti Volevo fare una foto Volevo fare una foto al morto Spero No 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 Nessuna foto No 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 Ma dai raga Fatti no Ma ci vediamo Ci vediamo In box Ci stiamo divertendo Dai Ma non c'è niente da guardare Non c'è niente da guardare Ma dove cazzo siete? Mi avete lasciato qua Un pezzino in me Fratelli sali dai Dov'è Max? Ma mi sapete dire per caso Come manci tutta questa gente a terra E nessuno chiama l'ambulanza Ma dove sei? Dove sei? Nene Dice che non è stata l'ambulanza Ora questo lo faccio al di là vicino all'ulta Ok prendilo Admi trovi vicino all'altro Si Beccate il culo Beccati sto culo Trimò No Che le succede? Mi dica È una tradizione Si fanno i morti Noi facciamo beccati sto culo Trimò È una tradizione nostra Tradizione un po' strana Eh lo so Ma lei dice camminare con le pinne così in maniera leggera? Almeno lì indietro deve camminare eh Sono Se ne sta andando Dai andiamo Un po' bizzarro il tipo eh Guardi guardi signore con i capelli bianchi sono Signore lei è un po' bizzarro Sono noi youtuber della piattaforma rossa Sto streamando Ma salve Salve caro Io non voglio la mia immagine su questa piattaforma Ma se ci importa anche una sega Siamo in territorio pubblico Deve andarsene lei No 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 Assolutamente no Ragazzi Stacco la live della piattaforma rossa Non si vede bene No no Non prende bene C'è Iliad Stacchi le pinne Come si chiama il signore? Secondo me è un pazzo Già scarlo Già scarlo Signor Già scarlo Ma sono tutti amici noi Madre mia No non li conosco E perché le rongiano attorno? Ma che ne so Ma che ne so Già scarlo Ah Ce ne dobbiamo andare A rivederci Ma dov'è il nostro amico morto però? Non ci sono i medici Non lo sai Andiamo via Oh ma ci sono delle macchine che fanno sesso Calma signore Tu caccia di cazzo Provova la guerra Leati dal cazzo Oh Finalmente Ma ricco speriamo che lo guariscano Ma ragazzi Ma ragazzi Ma ragazzi Ma noi dovevamo fare la truffa del pilone Carlo Carlo allora innanzitutto Dobbiamo andare a acquistare un passamontagna Andiamo a acquistare un passamontagna E poi truffare il pilone Se vuoi Non possiamo Non possiamo rapinare gente a caso Carlo Contro le leggi della città Allora facciamoci Contro Come fanno in discoteca Andiamo addosso a qualcuno Diciamo siamo un sonso Come fai ad essere legale A rapinare la gente Allora Vediamo di andare quindi Andiamo in centrale Proviamo a chiedere Aspetta Chiediamo indicazioni Chiediamo indicazioni Scusi Ehi Oh Ci di cacano Ma è lei che mi ha mandato raffanculo Non ho capito Oh Carlo andiamocene via dai E lei che mi ha mandato raffanculo Just Carlo andiamo Quello che manca Ancora un po' Sì sì Vabbè Andiamocene via da qua Allora raffanculo alla seconda Ok Benissimo Oh Oh Fermo fermo Carlo Shhh Ti stava Oh Sali sali Vai 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 No Eh Non ci sono medici Non ci sono medici Non ci sono medici Scappa scappa Carlo Mi va Mi mette il punto alla polizia 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 Dove cazzo è la polizia Grazie il pensaiolo Ecco Forza Juve Fermo 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 Dove Dobbiamo cambiare macchina Max Quindi veloci Va bene le spengo Ok Quasi Arrivano Fermo 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 Prossima macchina che arriva Prossima macchina Aspetta che mangio Aspetta aspetta Fai un attimino retro Allora Max non mi sento bene Andiamo via Andiamo via Andiamo via con calma Non fa guidare me Carlo Non faccio incidenti Ah Muscolo H per le luci Ah ok Perfetto Non faccio incidenti Non faccio incidenti per favore Non ti senti bene? Un po' di nausea? No no Mi sento proprio che sopevolito Sento che se cado dalla macchina Sono morto Ok vado piano Vai piano Tanto la macchina cos'è? La macchina viola La macchina viola Vado piano Faccia i semafori Faccia i semafori La prossima volta Non qua Non mi sembra il posto giusto Come faccio a curarmi? Con un alcolico? Andiamo a denunciarli? Io Proverei a farmi fare il porto d'armi Ok ok Salve Oh! Ma che fai? Pazzo Ma che cazzo fa? No non è vero Non è vero No E io ora se Ora è un problema se non ci sono medici O sono ii comunque non rimborso, non ti rimborso i soldi sono andati non me ne frega un cazzo di te allora no, no, è uno scammer lo banno addirittura no, no, è lui lo scammer è lui lo scammer cosa ha fatto? è caslogato e rilogato? oh, oh ma Martin neanche che mi cura neanche che mi dà un occhio Martin tutto bene? poi voglio sopra una portiera come stai? tutto bene? oddio, oddio, oddio che succede? che succede? ma sono morto, com'è che succede? sono morto siamo subito in ambulanza grazie man ma se non ci sono medici posso slogare carlo come riesco a prenderti? qual è il muscolo? muscolo spalla spalla ma mi sa che non ci sono medici eh, prova da scendere a ricascare eh, ma forse perdo tutto forse perdo tutto devo trovare il modo di rapinarti allora, provo a prenderti tutto come faccio? non la parte già bene sta roba oddio come stiamo? a chi te cid? cos'è? oh cosa? come faccio perquisirti? oddio come? come? avete chiamato un medico? si si l'ho chiamato ma credo che non ce ne siano al momento ah mannaggia grazie allora speriamo di andare in ospedale oh 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 che città di merda oh mi però bannarmi non penso sia una bella cosa dopo che ti ho staccato Napio o te era un troll pensavo fossi più scuro no no è affanculo vedo qualcosa di duro tranquillo Carlo resisti sono tutti qua dove sei? Enrico si salve sono con tutto ok Martino? tutto posto speriamo di trovare dei dottori c'è qualche medico qui in sala? no non ci sono medici ok non ti andrò a negare che sono con Max che sta Max mi senti? si ciao bello si Max c'è Enrico che mi ha chiamato mi fa che l'hanno rapinato cosa? l'hanno rapito l'hanno rapito scusami Enrico si Max hanno rapito Enrico l'hanno rapito oddio e mo come facciamo? c'è Carlo che è stato investito Carlo è stato investito io sono appena scelto all'ospedale Enrico che cazzo vuoi? devo scendere? Max fa mai dire quella cosa ah guardate quello di prima non sapeva il dottore lo cazzo devo fare il dottore ci serve un dottore ma non ci sono non perdo niente devo scendere dai ti porto con me non c'è problema Max devo scendere come devi scendere ascendere devi ascendere devi lasciarlo qua non ci sono medici lascialo qui mi dia il taser ma devo ascendere devo ascendere ascendi sali in cielo mi dia il taser vai verso la luce sto gratis ma oh Max dobbiamo andarcene andiamo dobbiamo andare a Savare Enrico guarda che si ruba la mia macchina ma aspettate perquisitemi come faccio a perquisirti Carlo perquisitemi come faccio oh et voilà salve grazie spiriti del cielo ma tu sei un caso clinico guarda guarda per terra una rigione spontanea incredibile eh eh sì eh ma è un miracolo un miracolo ragazzi miracolo Amico Votto me lo vado dalla macchina c'è una voltina eccolo bastardo non mi sparare più no no pezzo di merda hanno rapito Carlo andiamo ha marapito Enrico Enrico seguimi mi puoi dare il tetere malavente eh cazzo mi ha bisogno più di mentiri grazie ave mi sa che ave non abbiamo più notizie di Enrico mi sa eh hanno fatto fuori Enrico ave ave un cazzo ave andiamo ad Enrico grazie ci vediamo in giro troppo tardi vieni 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 pronto Max che cazzo fai come si chiama quello con la giaccia sono ubriaco batte l'affanculo come si chiama quello con la giaccia Max andiamo andiamo oh mi spiega bene quale è stato il troll altrimenti poi la gente non capisce e viene a offederti ti voglio bene che fai non c'è nessun tolto è stato uno scam eh non fotto quegli scam oh hanno seccato Enrico mi sa non mi risponde più al telefono andiamo andiamo l'hanno coltellato tre volte ah Max 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 ragazzi sono ubriachissimo Max occhio cazzo Enrico segreteria telefonica l'hanno fatto fuori occhio che a Max lo cercano i ragazzi quelli che ti hanno fatto fuori a te cercano Max Max anche scendi troia ma zitta andiamo sai che ti dico comunque Enrico non mi risponde più al telefono ragazzi eh si è capito è morto no no si mi sa che sta un po' male madonna svengono tutti in questa città mi sa che mettono qualcosa nell'acqua e nelle rubinette eh cosa facciamo? come la mettiamo? io andrei posso posso assorbire ti assorbisci? vai vai prendi prendi la roba prendi qualche rivitalizzante dove stiamo andando? a fare la tuffa del pilastro no non possiamo non possiamo rapire gente a caso o attacchiamo un briga come fanno tutti gli altri figli di puttana attacchiamo via con questi falliti hippie con chi? qui là non era nessuno ecco con questo fatti temporare oddio attenzione facciamoci temporare da qualcuno mettetevi le cinture qua c'è qualcuno no eccolo ancora oh ok ok bravo bravo oh caputana cioè quello ti segue mi sa quel camioncino ferma fatti tampare quello dietro ah ho attivo il sussurro come faccio a toglierlo? eh oh oh lo z aspetta adesso facciamo una cosa bella Carlo guarda ora sto urlando in teoria oh ma siete pazzi? oh ma siete pazzi? eh vabbè eh vabbè no è mia macchina grazie gioco per i 50 euro ma chi ti ha investito? caffone no no ma che fai è una macchetta usalo usalo Carlo Carlo uso usalo 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 ah 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 non scendere Lontani, lontani, siete pazzi Questi sono pazzi Lontani, sia lontana Sia lontana Continua Carlo Stia lontana, ok basta Teseralo, teseralo No, no, basta, stia lontana Dammi il macete, bastardo Vai con la mazza Max, vai con la mazza Ah, è il tuo nemico Vai, vai, vai È un uomo È il tuo nemico L'uomo è il tuo nemico Ma chi cazzo è questo È quello che voleva sopra Max Oh, l'anfiatto cerco, Max Rubai tutto quello che c'è addosso Che bevo fa? Dai, vai al bordo qui Ti è sveduto Lo sanno? Ma come fa l'intore? No, non sapevo questo Max No, Max Attento Scusami caro Uh 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 Che l'iscio mi ha fatto con l'audio Signor Carlo Cannone? Sì? Ragazzi, comunque Ma te che cazzo ci fai con le pille? Signor Carlo Cannone? Scusi Attento Oh, prima muscolo H su quel bastardo Max Rubatti il mazzetto Cosa ha detto, dai? Portatelo all'ospedale Muscolo H Muscolo H Muscolo H Ma non lo so Ma che muscolo H? Come si prende le robe? Muscolo H con la mazzetta Occhio che siamo in mezzo alla strada, eh Muscolo H con la mazzetta Formula 2 Formula 2 F2 Muscolo H Ragazzi, io mi sono andato a passare Nulla, questo lestofante C'ha Grazie, diere prima E qua facciamo un bel guancialotto Però ragazzi Non sparate dal veicolo Che è controbibbia Ah, scusami Ma il veicolo nostro è una ferma Max Non sono quattro Come erano F2 Ok Sì Va bene, scusami, scusami Faccio finta che non ho visto Ma io non sono nessuno Non ci ho letto niente di niente Ma lo dico per voi Grazie, grazie Non lo sapevo, grazie Scusa Ti lo scusami Vabbè, comunque ragazzi Avete preso bene E' inquietante Me lo dai Numero 4 Eh, ma ieri hai cercato di Un attimo Di cercare di mettere le mani sotto i pantaloni del mio amico Ah Io questo qua ci vorrei affrontare Questo ti ho provato Sì, ma mi dai documenti Ragazzi, vuoi dire passare al nostro locale Al mordi e via A prendere qualcosa Certo, noi siamo clienti fissi Ma andiamo al mordi e via, sì Ragazzi No, Max Mi hai rubato le robe a me, Max Mi stai riprendendo le robe da me Ma levati da un po' dal cadavere del tuo amico di me Ah Leva Max, mettiti sul suo cadavere E ridammi anche i miei soldi, i miei documenti Sì, sì Ti sono un attimo Max, cosa sta facendo? Ok Ah, hai preso le pillole, le hai prese le pillole? Eh, da un po' che non le prendo L'hai preso, Max, la roba sua? Ce l'ha il macete, lo vedi? Sì, sì Lo posso Gentilmente, se mi dai i documenti miei Anche Lei che fa con quell'orecchino? Con quegli orecchini? Mi sembra uno che lavora nell'alta moda No, no Semplicemente Mi piaceva Non proprio nell'alta moda Cioè Sono avessi delegando Perché faccio il butta fuori a mordi e via Ma Ma a mordi e via non è un personante? No, il mordi e via è un locale Ah, ma c'è Ci sono Diciamolo, ce l'ho Ci sono un puttane Se volete Alcune volte passano Ah, ok Ok, piacere Allora Ci vediamo a mordi e via Vediamo a mordi e via, caro Se volete Vi aspetto figate Lei è il signor? Il signor Lello Ci siamo presentati prima Eh, ma un po' di mordi Allora Lello Va bene Dica, veniva Colpo sotto Colpo sotto Arraboco Lello A tra poco Allora, ragazzi Mi raccomando Aspettate Togliete questo corpo Da mezzo della strada Anzi a me passano i blotti E Max Muscolo spalla Cinque Senta Leone No Marco Sette Scusi Quanti te ne devo dare Di fila Basta fare il Connor Black Gregor Basta Sono incassato Prova l'altro Eh, lo so Lo prendo l'altro La smettiti di fare a botte con tutti o no? Sì, dammi Ma che fa? Si è piccato Oh, ma Ho portato Il 1750 Tipo 1750 Sì Dammi anche un 1500 Ma il macete te l'ha dato? Mi hai dato uno, Max Devi selezionare mille come cifra Andiamo a noi Di fuggi, Bax Sì Adesso andiamo Mi deve dare un attimo il macete, Max Eh, non me la fa Non me la fa fare Aspetta Il macete non te l'ha dato? Chi è 409? Io, io Ok No, non riesco Ah, ok Dove è il modi e fuggi? Metti la cifra Al posto Devi dire Ti regalo Ti ho smontando il macete Ti devi dire Andiamo al modi e fuggi, Bax Laci il macete, Kikko Oh, c'è un pazzo Ti ho dati? No 409 Dai anche i documenti Ma qua vanno velocissimo Ok, dai, anche i documenti Passami un documento Ragazzi, attenzione Scusate, ma siete pazzi Che vivete di bello la strada Ma una persona morta lì Senta, vado a fare il suo lavoro Di metroniere Non lo so per i coglioni Ti ho smontato il macete E te lo prendi Sì Io ho smontato il macete Scusi, siamo un attimo nella merda Ti faccio trovare in un pilastro di cemento Ti faccio trovare Vedi di andare a tenere via le coglioni Perché c'è una persona morta? Ti devi andare No Oh Oh Ho smontato il macete Ma non si dicono queste cose Pezzo di merda Cosa sta facendo lei? Se ne vada Se ne vada lei? Via, via Io Via, via Ma voi vi bilanciate Voi siete pazzi Via, via Lei come si chiama? Non so n'è a fare il suo Ma lei si è presentato i Ma lei è presentato diversamente Non lo so Scusi Stiamo facendo delle cose Arrivederci Sul tuo pugno Vedi cosa vedi Senti andiamo Max Hai una spranga Hai un coltello Va bene così No La mazza da baseball O il coltello Va bene Andiamo Dai andiamo Andiamo a Mordi e Fuggi Ecco Ecco Ancora questo Occhio Oh Andiamo a Mordi e Fuggi Usiamo la tecnica Oh c'è un inseguimento Andiamo a fare content Vai 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 No no Cazzo No Ma che fa? E' il nostro amico Vabbè sta bene Tutto a posto? Lo prendo come un sì Occhio a stare sdraiato eh Mi sa di no Vabbè lasciamolo lì E questo è il Mordi e Fuggi? Sì Carlo Mocchi Ti è vivo Ti portava Guardi sono stato io Questo ragazzo Dai non pari La cina Prendevi qualcosa Mi fa piacere che state qua Sì guardi Io conosco bene il suo capo C'è anche un bel rapporto Sono cliente fisso Vai ragazzi Sarò su capo quello lì Che dice sempre Munness mi dice Ogni volta Non so perché No non lo so Forse no Munness Quello l'anziano Lo zio Lo zio Sì Mi dai una mano Aiuto Dammi la mano Foto di gruppo boys Scusatemi ragazzi Ma lei Si guardate la macchina E te c'è sinistra Scusatemi Ma perché quel ragazzo C'ha le pinne È un amico mio Sono uno youtuber Come uno youtuber Scusatemi Ma che stai facendo Ma che stai facendo Una live Sì sto facendo un video Su youtube E possiamo fare Ci può intervistare E fate una foto Mettetemi in foto Ma quanti follow La guerra c'hai Qua dove devo sponsorizzare Il locale Prod'andare a fare Porto d'armi Eh Sponsorizzi Sponsorizzi Eh Fasta foto Carlo Sono il vice direttore De questo locale No no Di questo locale Allora Questo locale Si chiama Portia e via Potete trovare Tutti i ragazzi Di Batesse napoletane Bravura Capito Capito Gabby Munness Oh No 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 Mi fa male Mi fa male Oh Oh No no Dobbiamo andare È arrivato Enrico Alla prossima Che è che Chi è Ma è che sta No sta spessa Che è successo Ma che sta succedendo Io volevo fare una sponsorship Andiamo Seguici Allora ragazzi Mi hanno rapinato E ucciso A causa vostra Entra Ma come a casa Enrico Ma te non puoi saperle Queste cose No invece le posso sapere E me ne sbatto Max Max Vattene Max Vattene Max Ci stavamo prendendo Un proiettile Per Max Figa Eh questi qua Me lo ricordo Me lo ricordo bene Invece Me l'ha detto Me l'ha detto Il VOD Ma no Non puoi Non puoi vederlo Enrico Non è Ma me ne frega un cazzo Quelli Max è dietro Max è dietro Ci cacciano dalla città Max è dietro Max è dietro Max è dietro I coglioni È dietro Max Ecco Max Entra Una guerra E a caso Entra Occhio Occhio Che ti voglio La morte Che cavallo Ok allora Diciamo che odio Tantissimo a caso Due persone Possiamo ucciderle Eh no Non possiamo Loro hanno ucciso me a caso Non vedo perché no Eh domani andremo a parlare Con un Un superiore Andiamo dalla polizia A fare un porto Andiamo a denunciarli Noi adesso Faremo cacciare Queste persone Dalla città Max Se no Andiamo a giocarci Una schedina Viado alla polizia A denunciarli Occhio che qua Muoio eh Di solito Voilà Pazzi Ottimo Piano un cazzo Piano un cazzo Salve Salve No ma non possiamo farlo Il porto d'armi Dobbiamo andare Prima a fare Un certificato medico Del cazzo Dove medici Non ci sono E poi dobbiamo venire qua Porca puttana Mamma Se non ci sono i medici Non c'è nessun certificato Eh niente Sì poi ti sto cercando i medici Andiamoci Siamo di report Ah Ma Alzo le mani Lei è un Qualcuno Di conosciuto qua Conta qualcosa Io Io sono solo un direttore Di un locale Della polizia No no Che polizia Direttore del locale Ah ok È un civile Ok non ci interessa Che locale Torquemada È un locale sulla spiaggia Ah Lei per caso Ma sta tutto sporco di ragù Che ha combinato Il tuffo nella La pentola Come sto sporco di ragù Tutto sporco di sangue Oh Ma forse sarà Arrivederci Mamma mia Ragazzi Carlone Eccomi Eccomi boys Basto sporco Ah Grazie Luca Cafone Grazie mille Bello Dimmi dimmi Carlo Dimmi Ma Quindi cosa stiamo facendo Facciamo la truffa La truffa del pilone Eccola Oh Oh Ecco Ecco Truffa 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 del pilone Aspetta Però qua hanno sparato Max Prima Sì Non c'è problema Ai 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 Grazie Ivan Grazie per l'oss Bello Ciao ragazzi Ciao belli Oh Porca troia Scusami Grazie Grazie Ivan Oh What the fuck Grazie Ivan È Ruffa del pilone E' là È là La E' là Guarda Hanno ucciso nostro amico oddio oddio via via che qua vogliono molto anche max via d'acqua via via sali sali carlo mettiamo la macchina dell'acqua fermo 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 vedo se lo riconosco vedo se lo riconosco sono io che cazzo no non tu non tu guarda quello della smart ma cosa cazzo stiamo facendo stiamo indicando ma danilo guarda quello nella smart nella smart si si è uno con i pantaloni beige ok c'è nessuno nella smart pantaloni beige non vedo nessuno qui non c'è nessuno è possibile che sia salito forse lui no non è lui non è lui non è lui qua è andato qua è andato per dove secondo me o chi è questo enrico no 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 ma ma si non c'è problema è al cambio automatico e stia attento però c'è il ragazzo lì si e non stia attento se non butta sotto il ragazzo no quello è carlo non lo butto sotto e io non so chi però comunque stia attento a non fare da ha visto uno con i pantaloni beige beige oh si no sinceramente però se vuole da un passaggio questa corre può uscire un attimo va bene ah ok no prego prego non è lei non è lei eh no no ci mancherebbe altrimenti mica mi fermavo e comunque vuole un passaggio per trovare questo tizio no no grazie grazie facciamo non troviamo nessuno andiamo a lavorare noi con i comuni mortali va bene io la saluto e le auguro buon giornata buona giornata e si tocca le pinne che si scivano in sulla sfalto sali carlo sali 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 salio Ma che cazzo stiamo facendo, Carlo? Ma Max, non prende più le sue pillole Sì, ma in compenso piglia i 400 all'ora Guarda dove cazzo è Max Max Guarda come si sgomma Dove andiamo con sta macchina che hai rubato? Ma che ne so, la buttiamo di nuovo in acqua Va bene Aspetta, però a sto giro Andiamo Al porto Andiamo a fare la truffa del pillole Alla ruota panoramica Vai, ti seguo, però vai piano Ma che palle, se vado piano Aspetta, provo a segnalarti il punto Ruota panoramica Sulla spiaggia d'ovest È il pontile Io ti seguo Dicono di controlla Niente Dimmi Niente, è sbagliato Ma dove te, che direzione guarda? Ma non riesci a guidare neanche Vedi, non prende le sue pillole Ma poi io lo sai cosa farà Max Come al solito Andrà sempre in davanti a quel posto E lo ammazzeranno Eh, torna dai nemici Ma io Ma dove cazzo è già andato? Eccolo Raggiù Sinistra 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 Alla ruota panoramica È al molo È al molo Enrico È al molo E metti il pallino Metti il pallino Ah, non lo so Ok Chi è questo? Pemmo di, pemmo di Pemmo di, pemmo di Ma non mi rompe i coglioni Pure te Ma chi è qui? Ma chi sono? Ma che cazzo ne so Ok Ok, siamo arrivati Devo salire sopra, mi sa No, ci salire anche da sotto? No Non lo so, non lo so Ah, ok, qui da qua Mi sa che Max ha tutta la città addosso, eh Eh, temo di sì Guarda, guarda, guarda Chi cazzo sono questi? Oh Piano, piano Paletti C'è anche altra gente Calmo Oh, salve 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 Avete visto Una macchina fiammante? Fiammante? Non vogliamo rompere i coglioni Ma c'è una macchina di russo Molto più di questa D'oro? Sì, l'abbiamo vinto Sì Al casino È andato secondo me a festeggiare È passato, come l'abbiamo visto È passato, come l'abbiamo visto È passato, come l'abbiamo visto È passato, due, tre Ciao Amigli, diciannove, ventinove, trintanove, quarantanove, cinquanta Ok Forse vuole festeggiare Non lo so Ma perché è successo qualcosa? Sono quella macchina, no? No, voleva... Non ha la patente, è per questo No Sì, è un nostro amico non ha messo benissimo E voi cosa facevate qua, scusatemi? Niente, volevamo vedere se era aperto Ma mi sarebbe chiuso Cosa? Volevamo vedere se era aperto Ma mi sarebbe chiuso Ma è notte, notte Qua ci sono dei giri strani, scusatemi o no? Ma magari Oh Eccola! Forse questa Chi siete voi? Ciao, ciao, mi fai la truffa del pilone Salve Oh, c'è una signorina, salve signorina Ma, sto a posto? Oh, due! Si raddoppiano Oh C'è un piccolo autoscontri da milionari Seguite tutti quella macchina gialla Oh, hanno delle pistole Hanno delle pistole Vai, 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 Max Via le coglioni tu, non so chi sia Via, via No Tutto sotto controllo Via, 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 via Ok, non sono indietro Sa che è andato dritto Secondo me è a destra Grazie a Joe Ma una camera in più nella casa I libri di storia lo chiameranno lo scam del molo Grazie Sì, sì Mi sa che quello era il proprietario della macchina Con la sua macchina, altra macchina Eh sì Mamma mia, Max è un nuovo moto che cammina Ma questo, questo chi cazzo è? Ma come guida? Seguiamolo, seguiamolo Vai piano Vai piano Vai piano Vai piano Vai piano Vai piano Vai a destra Vai a destra Oh, ma voi siete quelli Ma ci odiano tutti Ma fermo, fermo, fermo È il pazzo È lo stalker È quello che abbiamo investito Qualche ora fa Pronto a fare l'invenzione? Grazie Ok, ok Fermo, fermo C'è tanta gente Aspetta, aspetta Faccio retro? No, vai avanti, vai avanti Scappa Ridatemi il macete Scusi, non l'ho sentito bene Mi scusi Ridatemi il macete Ma chi è lei? Mi avete rubato il macete Mi scusi, mi scusi Con calma, con calma Scenda subito Con calma Aspetti, aspetti Ho una certa età Basta Io non ho rubato nessun macete No, no, no Tranquilli, tranquilli Non ho rubato nessun macete Sì, invece No E mi avete pure rotto il faccio No, no Sono stati due ragazzi che non sono più con noi Sfortunatamente guardi là Guardi là in cima Guardi lassù Lo vede? Sì Ora quei ragazzi sono dei piccoli puntini Puntini nel cielo stellato Come quella luna Come quella luna nel cielo stellato Sono andati via Preghiamo, preghiamo per loro Sono andati via Sono andati via Sono andati via Senta Vuoi un po' di scossa? No Allora si butti Si butti, si butti Non dovrebbe morire Venga, guardi Vada No Arrivederla Vada, vada No Tutto risolto E non si facciamo più rivedere Dovrebbe essere solo svegluto Oh Aspetta Io non mi sento molto bene Bene Allora questo qua l'abbiamo fatto Per il resto Spero che Aspetti, aspetti Dove stiamo andando? Che cazzo ne so Max l'abbiamo perso Gli altri due l'abbiamo perso Ah no, c'è la sua più uno E l'altro l'abbiamo perso La macchina è smontata E boh Proviamo a tornare al porto? Si, si Torniamo al porto Sempre il pallino E' da tanto Armeria aperta Vabbè, non ci interessa C'ho già tutto quello che ci serve Hai il numero di Max? Non ho più il telefono Devono avermelo rapinato Mazzarola Nonostante senti la suoneria No, però Avevo il numero di Giordano Ma non lo so più Eh, ce l'hai? No, forse se mi concentro a memoria Me lo ricordo Aspetta un secondo Vediamo se la memoria Mi torna Proverai ad andare al porto Se no andiamo al Se no andiamo da qualche parte A cercare qualche Inghippo A fare la truffa del matto Del pilone Del mattone Del pilone Ma questa truffa del pilone Mi va a consistere in Allora Galaccia centrale Oppure Ci facciamo investire E poi Creiamo una quantità Però siamo due Dobbiamo trovare una persona da sola Inoltre io sono già mezzo morto E anch'io 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 Ma io c'ho il teaser C'ho il teaser Quindi io mi tengo a distanza E se Zack 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 Ok Medici non ce ne sono Giusto Enrico In città Non ne ho viste Oh attenzione Oh C'è ancora attività C'è la signorina Chi è questo? Chi è questo? Chi caso sei? Ah no Ah è un jogger Si mette in retromarcia però Entra in retromarcia Jogger Se ne vada dei coglioni Entra in retromarcia Mi sono ricordato il numero 555 789 73 555 789 73 Aspetta Aspetta Andartene Vediamo cosa succede Chiamalo tu Mi ridica 555 789 73 Ok Prova a chiamarlo Si pestano Pronto Pronto? Pronto? Andre Eh Si Carlo Danilo Sono Sono Giordano Giordano Dove cazzo sei? Sono Alla ruota panoramica Al molo Vieni qua Arrivo va Che cazzo ci fate lì? Eh bene Tu voi ti spieghiamo Vieni Ok Sta arrivando Sta arrivando Perfetto Io le lasciarei tranquilli Carlo Maxi Rissa Maxi Rissa Su lungomare Ed è qui Nelle strade del molo Dove La violenza È indisturbata Libera Vediamo questi ragazzi La violenza Rilaga tra i giovani Su telegram Nelle strade Di questo mare Gruppi di giovani Di telegram Si sono riuniti Per picchiarsi Sul molo Non è vero Gli stavo dicendo un bacio No no Non si vergogna lei Una siringa di troppo Non c'è niente da guardare Eh le spadine I ragazzi di telegram Si uniscono Oddio Anche No Oh morto È morto Ragazzi È tutto È tutto bene Con questo qua Ci fai Almeno 100 200 dollari Sì sì Abbiamo il content Ma c'è un moto Ma la polizia Io non ho mai visto In questa città No ma infatti Non c'è proprio Ma cosa è successo Scontro tra bande Chiediamo cosa è successo Cos'è successo ragazzi Scontro tra bande Cosa è successo ragazzi Ma lo sai tu Che cazzo Succede qua Eh no Non lo sappiamo Per questo che abbiamo Chiesto a te Ma il locale è tuo Oh oh Ma che bevi Quanto tranquilli Fratello Scontro tra bande Ecco Ecco Una delle bande rivali Ma chi è E questo è questo Che stai andando Ma questo ma che cazzo Che macchina c'ha Ma mi scusi Chi è che ha Amato Io Sì Andiamo a fare Un po' Insanguinato Ecco ecco Altra gente Delle strade del Molo Piene di Oh ma è il nostro amico Giordano Sì che cazzo Sta succedendo Giordanone Ma abbiamo perso Max E mo' Che cazzo ci facciamo E c'è un Pugui Delle vie del Molo Ci sono Maxi Disse Per la live Ah ottimo Andiamo a vedere Più avanti nel Molo Cosa succede Che magari c'è Un'altra Maxi Disse Occhio occhio Ecco qua c'è Da fare il Cid Dai Il truffa del pilone Il truffa del pilone Il truffa del pilone Vai Oh Ecco Ecco Signore Ma lei ci ha investito Ma un po' Tentino Ma signore Ma lei ci ha investito Lei ci ha investito Io facciamo il Cid Ma se io Vado a destra E poi andate Contromano Ehi ma cazzo E' una sola corsia Bisogna guidar piano Bisogna guidar piano Va bene Sì Arrivederci Comunque bella macchina O mette il soccorso Stavo mettendo il soccorso Stavo mettendo il soccorso così Andiamo mangiare Andiamo mangiarci un hamburger Io chiamerei D'autorità competenti Ma scusi Ma se non c'è nessuno Scusi Ma lei è quella Signorina Io direi Si afferma Prego Prego Ma che è successo qua Una maxilista prima Signora Ma chi è che ne faceva parte E di ragazzi Ho visto che lei è il giornalista Sì ma uno è morto Sì sì Lo youtubers Mi sento Complimenti Di oh mamma mia Noi secondo me Scusi Piano piano Ma in regge poi E ho capito Ma queste macchine Sono distrute Questa macchina qua No no Ne spiego Ma che fai L'altra volta Pronto? Pronto? Come si chiama? Pronto? Pronto? Pronto Mi scusi Puoi uscire dall'altro con l'amorista è un attimo faccio un attimo manovra c'è rico è una lista dimmi un attimo qui a fianco la macchina gialla è vero che era guidata da un signore che l'ha rubata nel parcheggio ma guarda io non ho io non ho visto niente informazioni in merito era a mordi via con la macchina nera in seguito questa macchina gialla se non sbaglio pronto io non sento ma che sto casino vabbè comunque con i chiamati rosa l'ho giocato un piccolo rubato un mio amico a nevito e ricordando io vieni qua minuti l'ho appena prisa ma davanti a terra sta arrivando ma seguiamo con i miei quello con la lamborghini bianchi in fondo in fondo è quello che ha ucciso il nostro amico damiano che sta facendo la reto andiamo sta arrivando max e sta a mordi via lavorare vai 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 beccalo 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 ok pali ok pali sperona 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 ma che fai ci vieni addosso addio a sa sa e il save vai 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 dove cazzo vai e dietro di te Ritorniamo Ritorniamo di Ok Ma che ok Dietro di me non penso Di andare così Non penso di andare così forte Una macchina decente Torniamo là Comunque Quello con la macchina con la Lamborghini bianca E' quello che ha ucciso Damiano Eccolo Vola giù Si forse lo stesso E' quello che ha ucciso Damiano Vai 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 Ma questa non è una Lambo Non mi rompa i coglioni Ma no questo Oh mi ha chiamato Max Andiamo alla Luna Park Si si Max Ma che fa Ma questo sta rompendo i coglioni Andiamo vai E qui se Enrico Se rivedi quello là Avvisami eh Si Eh ma qua si cambiano tutti i vestiti eh E tal capigliatura Super Ero anche al telefono Ecco ma non si guida il telefono E' pericoloso Attenzione c'è un bambino Ma che faccio? Attenzione Ma che spazio è in chi? Mi scusi sono il telefono Ma lei è lo zio? Domani le faccio appena un tiktok Ma che faccio? Perché mi prende sempre a pugni a caso Io ma tu c'è lei che non scorre Autofrelazio Ma fa forza E' lo andando Stavo messo Enrico Me la parcheggia lì in fondo Grazie Dimmi Entra Ma siamo arrivati Parcheggiamola lì in fondo Sta arrivando Max Sta arrivando eh Eh andiamo Vediamo dov'è Oh oh occhio occhio No scusi Scusi bella quest'auto Sì Lo fa vedere Sì guarda Scendi notte Sì sì Devi guardare la strada Dove guardare Fottiti Ma come scusbutico dai eh Vada a fare in culo Anche tu Va bene? Oh non mi pisciare sull'auto Levati eh Levati dai Levati eh Via via Vai Già Spasquale vai Già Spasquale Guarda vai giù Vai giù vai Siamo qua Via dei coglioni Via dei coglioni Per favore Via dei coglioni Siamo sulla strada Ci vedi? Per favore Non dia fastidio Te ne devi andare a fare in culo Fisciami di nuovo sulla macchina Ti distruggo di botte Hai capito? No Non uccidetevi Non uccidetevi Ma Ah Oh Maxone Non uccidetevi Aiuto Non uccidetevi Per favore Aiuto Non uccidetevi Ai 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 No no Mi ha aiutato Mi ha aiutato Non mi facevi Non uccidetevi Non mi facevi uccidetevi Non mi facevi uccidetevi No no Questo coltese mi ha dato una mano Mi stavano rapinando Mi mangi allontanate Non ve ne andate Non ve ne andate Tutti i pericoli Scenda dalla macchina Scenda dalla macchina Scenda dalla macchina Scenda dalla macchina Max Max Scendi Scendi Max Max Scendi Posì 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 Ragazzi Ma noi qua Non stiamo facendo nulla Abbiamo subito una rapina Ma non c'è un muro C'è una stazionata Sì Scontro la stazionata Allontanatevi Allontanatevi Come mai Vi stavate Ci hanno pisciato sulla macchina Come mai vi stavate pestando Ma guardi Allora io sono Io sono Uno youtuber Io c'ho il taser Me l'hanno dato Perché sono uno youtuber E Noi stiamo qua A fare un reportage Con il mio amico youtuber Nient'altro E uno ci ha pisciato sulla macchina Io fermavo la rissa Tra tutti Siamo Siamo delle persone per bene Potete controllarci No no Armi Non abbiamo armi Figa Sì Solo Il mio amico Già scatto Muscolo X Max Muscolo Muscolo X-Man Muscolo X-Man Vieni con me dai Muscolo X-Man Si fermi Si fermi Si fermi Si fermi Eh quello è quello Che è in volta Nella rissa Questo è il tipo Che ci stava picchiando Tu È quello che ci stava pestando Cosa? Ok quindi ragazzi Dove va il signor? Max È andato Oh mio Dio Max E si è rialzato così Ma che fa Ma è pazzo Lei è puntato Si fermi No No Basta basta L'avete ucciso L'avete ucciso La giustizia che ci piace Ma è che il Papa Dalla malcolata così Lei si stava No Me lo stavo levando Mi scusi Perciò ho dato Lei è il signore Che stava pure Alla centrale Che ci dava fastidio Quindi Ci appoggia la richiera Non è vero Addio Max Addio Max Addio Max Mi stanno chiamando Mi stanno arrestando Non risponda Non risponda Attacchi sul video Ma qua nessuno che è da soccorso Il nostro amico Anche i passanti Si butti anche lei Quello che ha risposto È l'184 Ma lasciateci in pace Ehi ucazzo Ma che fa Ma che succede Vieni qua Ma adesso Chi è che mi vuole raccontare Allora posso raccontarle io Posso parlare con lei Prego Agente Ok Ci mettiamo un'altra sponda Ok Ma è la polizia Io non sto capendo A me piace la pia Allontana di un attimo È la polizia Enrico Ma no Non mi arresti Non mi arresti Ma credi sì Mi ammazzo No ma gliele metto Gliele metto leggero Ma che giulare che è Quello di Stia zitto Sono leggere Rimanga qui Sono leggere Ci spiegate tutto Non scappate Che tepista Ma chi è quello No no Siamo assolutamente Compliant Quello Non si preoccupi Non si preoccupi Non si preoccupi Non si preoccupi Le panga qui Alla ringhiera Allora mi scusi Allora Siamo qua Tranquillissimi No no Mi hanno buttato sotto Sotto Collaborando Non ne occorre Non ne occorre Non ne occorre Non ne occorre Ora vediamo cosa è successo Comunque questa è la maledizione No ma perché Non si è Ma è lei che ci ha Ficciato sulla macchina Non si è In stato di arresto Questo è il signore Che per prima Ha chiesto Del divino hotel Ma questa è la maledizione Signori vi ripeto Vi ripeto Non siete Non siete In stato di arresto Sta arrivando Le volanti della polizia Ah ok allora posso andare Non può andare Non può andare Là in stato di fermo Ah ok Il signor Cinaschi È un avvocato Fa il meccanico Ma come l'avvocato Fa il meccanico Ma che ne si ha No Lui è proprietario Dei È molto ricco Ma io sono stato arrestato Perché gli han pisciata La macchina Su quell'alto Non siete In stato di arresto Ecco la polizia Come ci tratta Mi vuole sparare È un pazzo Sono stato arrestato Abbassato Abbassato Ci puntano le pistole Siamo indifesi E inaccurati Già scarro Allora mi stava Enrico No 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 Via via Che sono No no Questo Lasciatelo Stato E anche Quello là È caduto giù E si alza Così Vabbè Allora aspettate Fermate Vi devo fare Una Eh Muoio Muoio Oh grazie Ma sì Ma non sono andato Io sopra Per mi Spontaneare Lo so Lo so Lo so Enrico è volato Giù Il signore Col giacone lungo Si sposti un attimo Ma gli agenti Ti vengono Ma non ci Sardo Le ho chiamato A proposito Di per i ratti Eh che chi Ma perché No no Ma lei mi vuole buttare Ma questo è abuso Aiuto Già scarro No 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 Con Già scarro Ok lo sposto Un po' Ho chiamato I sbitti Eccolo Già scarro Sta bene Ti ho salvato La vita Sì ma mi spingono Mi spingono Sempre sull'aringhiera Ma Enrico Guarda 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 quello Laggiù Che corre Con le mani Con le mani E cose No Ma è una cosa Assura No Adesso Adesso No Enrico Viene cacciato Dalla città Adesso Qua si Le stofante Capone Capone Va zitto Ma con questo Sgarbato Ma lei si stava pisciando addosso Ma voi vivete Questo ci ha pisciato addosso Ma lei che dava contro Ma guarda Tutti Signori Ma voi vivete L'ultimo minuto di silenzio Dopodiché parlerà La mia Allora Per favore Perché Aveva Sua pistola Addirittura Qua ci minacciano Di morte Sì E' perché ragazzi Sono le 3 di notte Non ce la facciamo più Un po' di serietà Un problema di città Se ne vado a fare in culo Vada Dio una pistola Con lo spallo Io mi vengo arrestato No no Di quale ragazzo Qua che mi ha pisciato Lei per cortesia Allora Per cortesia Visto che ha fatto discussione Con i signori Si può mettere Sul lato No Se le dirò a dare Via Questa capiglia Gente Gente Ormai questo capello È come Giaccarlo Signore dove sta andando Signore torni indietro Per piacere Non renda le cose Già scarlo Non rendetele No no Ma stavo facendo I due dita Guardi io passerò A miglior vita Adesso Mi può dare un pugno Signore Però troppi Mi resti dando Mi dai un'altra spinta Non posso saltare Non posso far niente Mi sa che si è manettato Non posso far niente Gentilmente Posso smanettare Il mio amico Già scarlo Eccomi Non è lui No no Non è lui Si finge anche Ma io Gigi Te ne occupi tu Per piacere Che mi sta scoppiando La testa Sono tutto bloccato Ragazzi Ma chi è questo Oh c'è Max Smettiamo di ferbuffoni Ci sono dei feriti A smettere di ferbuffoni Oh già scarlo Guarda un po' Ottima capigliatura Mi può sblocare un attimo E mi ammanetta Perché sto un attimo Ma io non la vedo Con le manette Già scarlo Eh ma neanche io Però sto bloccato Si 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 Esattamente Vediamo Già scarlo Ho zero ragazzi Sono bloccato Signori Uno solo di voi tre Venga con me E mi spieghi il successo Vengo vengo io Vengo io No 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 Io sono la parte lesa Allora guarda Anch'io vado a spiegare Io ho parlato Ma Ha detto uno Ha detto uno Ah ecco perché stavo Aspetta 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 Non ti muovere Banana Lo conosco Anch'io la riesco a saltare Allora No di nuovo Ah eccovi Sono vivo Mi arresti Ma no no Non l'arresto Non ci sia piacere Collaborate Che ci sono le tre Ma 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 sta dicendo Fandone Ma qua c'è il suo turno Che parla anche lei Con i capelli lunghi Non posso fare niente ragazzi Niente di niente Neanche chi era fuori la videocamera Sono bloccato Giascarlo venga qua Giascarlo venga qua Ma questo Venga Venga a testimoniare Si sono avvicinati Con questo mezzo Noi siamo venuti qua A piedi Non abbiamo una macchina Ma non è vero Avete delle prove video Non abbiamo prove video Non avete prove video Ma guarda quello Guarda Signore Quello è un capone Signore venga quello Ragazzi mi hanno paralizzato Aiutatemi Agente Mi ha detto di lei Signore venga qua Potrebbe smanettare Giascarlo Ma mica Ma io non ho le visto Già Ma trovi di con le manette Il signore con le manette Il signore con le manette Venga verso di me Venga verso di me Aspetta Ce l'ho io No no Aspetta Devo fare prima così Aspetta Perché io c'ho solo chiave Eh no Toglila Ciao Ti perdoni Io sono il capopastone E anche la chiacca Oh grazie Mi vede Oh grazie Grazie mille Ma io purtroppo Non la vedevo con le manette Ma neanche io Mi vedevo con le manette Lo so Stavo con mio amico Che è morto Quanto pari Il spinucco No allora lui ha iniziato Questo signore col turbante Ha iniziato a pisciare A pisciarci addosso Sì ha pisciato A pisciare Ok aspetta Aspettate Voi mi avete La vostra versione Signore mi spiega La sua versione Allora Praticamente Io ho parlato con il mio amico Quello là Aveva il quad Siamo arrivati qua Io ho fatto così Perché ho bisogno Di un passaggio Mi hanno investito Mi ha detto Mi scusi Mi scusi Mi può dare un passaggio Il signore ha fatto Se mi vado a fanculo Mi ha investito Al che Ho la copio Io adesso Adesso Ma Mostrame la bravissima Dopo me la mostri Va bene Continua Ma lei collabora Con i mischini Allora Continua Quei continuare Già scarlo Ci facciamo una nottata In quest'ora Così lo sa E come Continua Praticamente Sono caduto a terra Loro mi hanno Ributtato a terra Hanno sparato con il taser A un civile Io tengo anche il bypass Potrei svenire Da un momento all'altro Ma magari svieni No Ma mi augurano No Mi dissocio Chi è cambiato la GoPro? Lui 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 è pazzo Chi è cambiato la GoPro? Ma come ti danno le GoPro? Io E tutto ciò? Sono le prove Io sono le prove No Ho cancellato i file Per sbaglio Mettete il passaggio Carlo Erono le prove Per scagionarci Signore Signore Allora sto parlando In mancanza di rispetto Che le si gira Di spalle Signore Che vogliamo fare Noi ce ne vogliamo andare Sono le 3 di mattina Vogliamo fare i buffoni La finiamo qui Ma io sono finendo Ci andiamo in centrale Sono finendo di parlare E sto dicendo Mi hanno buttato sotto Due o tre volte Mi hanno sparato Il taser E poi sono passaggi Eh sì ma perché guardi Agente Io ho sparato il taser Sia a lui Sia al mio amico Perché si menavano E ha iniziato questo col turbante Eh ma lui è pazzo Il nemico si difendeva Già scatto Ce l'avete il porto taser Noi ce ne andiamo Quella nostra Sia No No vieni qua Ce l'hai il porto taser Ah scusi Enrico Ce l'hai il porto taser Dica Ah ce l'ha Bellissimi capelli comunque Ce l'hai il porto taser Permesso Ce l'hai il porto taser Comunque lei diceva Comunque Già Ma con te Permesso Ce l'hai il porto taser Permesso Permesso E' che non capisco Ce l'hai il porto taser No me l'hanno dato perché Io sono un reporter guardi Perché da quel che so Chi te l'ha data? Chi te l'ha data? E' un ragazzo perché La gente mi infortunava Quando metterà le riprese Eccolo Max Emiliano Sì sì ho risolto così Ma ringrazio però per l'attenzione Ma lei Conosce un segnottito No Ma smetti Mi svengo per favore Non tengo soldi per pagare Oh Max Max Stiamo riprendendo Massimiliano Guardi qua Guardi qua Hai un pazzo Bloccate il traffico Per piacere C'è l'altra vittura Pezzo l'interdita Vabbè Vabbè Mamma mia Vedi Signora Ceti Hanno chiamato le persone Mi volevano far uccidere Ma chi Ma chi Che non conoscevo nessuno Lei è un pazzo Lei sta immaginando le cose Lei dice il falso eh Questa è calugna gente Calugna Allora Lei dice bugie Chi è quell'uomo che è venuto qui Stati sito Chi è che è venuto Vieni con me Tu con il capellibro Vieni con me Uno è fatto Ciao Vittoria Max Spero tu sia comprensibile Non come quella testa di cazzo Se non mi sto scoppiando la testa Prendermenevata Allora ti spiego Per usare il taser Ci vuole il porto taser Tu lo tieni? Porto taser No me l'hanno dato per questioni Devo dare il mio buttafuori Eh come dici Ma mi ha dato la carabina Per buttafuori Però se non c'è il porto tarmi Non la puoi tenere Capisci? Ah il mio Allora quindi Io Siccome il mio buttafuori Non c'era Che ce l'avevo io Non posso tenerla Aspetti Agente Mi sa che sono ammalata E come si fa Questo porto tarmi Porto taser Deve andare in centrale Perché il mio buttafuori Ce l'ha eh Eh vado in centrale E chiede il porto taser Che sta facendo quello là? Ma chi? Ma chi è? Che cosa? No no tranquillo Pronto? Va bene Allora facciamo una cosa O lei si va a fare il porto taser O se no Mi vado Guardi guardi Io ho circa 7 buttafuori Mi vado a fare il porto taser Non c'è manco voglia prendertelo il taser Non c'è vuole Ok ok Grazie mille Tieni ti stacazzi porto taser E fatti a fare il porto taser Capito? Perfetto Grazie Andate via Andate via Andate via Tutti dalle palle Veloci Lo sbiro Andate 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 Andiamo Max Andiamo Ragazzi Allocco Vieni Rocco 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 salve Signore venite qua Sono io Signore con la maglietta a blu Vieni qua signore Ma lasciate stare Rocco Non sento niente Facciamo tutte e due a lui E dopo ci arrangiamo a lui a dividere Eh scusate Scusate Dove volete andare Venite Ragazzi Ma questo è il nostro nemico Non dovete salire in macchina con me Non dovete salire in macchina con me Ma questo è pazzo ragazzi Per favore Devo andare a dormire Ma siamo tornati da capo Guarda che piacere Spostatevi Vogliamo andare via Ma te investi le persone Ti cazzo la fatti venire in macchina Dai io ve ne vado a fanculo Cazzo la fatti Tenete Mamma mia ma qui siamo pazzi Chi è che mi sa succedere Prendi i max Prendi i max e andiamo Ma hanno fatto la fattura di 5 mila Non ce le ho si tolti Ma come le faccio a dare via Che mi busano le ruote Siete dei fatti Siete dei malati Calma e c***a tua Facciamoci dare un passaggio dal medico Che stasciata Ragazzi 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 No non andate lì Dove andare Agenti Agenti si sono ammazzati Guarda Lo dite che siamo noi Non cazzo Non mi frego un cazzo Andate Che è successo qua Non va sta macchina De merda Ma guarda E' molto ragazzo Ma non sentiamo niente Infatti si Andiamo a farci un giro sul lungomare E' molto max Questa macchina in prestito Ah no della polizia Ce l'ho dato un passaggio Signore Abbiamo solo un posto Andiamo Andiamo Basta oggi Ma hai ucciso il tuo amico Aiuto La polizia mi ha rubato il quad Entra Ho visto Carlo entra Signor Pinn No no Rocco Te esci da sta c***o di macchina Dai Signor Pinn Carlo entra Niente signor Pinn Carlo entra Ma chi è questo Carlo entra Entra in macchina Guida te Mi sono rotto i co***i E andiamo Dobbiamo cambiare auto Ma come Questi col Mercedes ci seguono Non caghiamo di tipezza Ma c'è un morto E ma è sempre lui E' il nemico Ma attenzione Guarda questo Guarda Carlo Metti davanti a quella macchina E davanti a noi E cambiamo macchina Questa ha le rotte bucate Quella lì Mettiti davanti Fermati Guarda Scusi Mi scusi Max o è finito? Max Non lo vedi te Non lo vedi te Ma che fanno? Guardate a sinistra Dove? Qua Oh fa delle flessioni in aria Mi unisco Ma che c***o vuole questo? Che c***o fai? Cammini lì dentro i muri E' un muro Carlo Carlo stai fissando un muro Che c***o vuoi? Che c***o vuoi? Ma no Ma li vedi? Dai Carlo Guarda questo Carlo stai fissando un muro Non so che c***o ti sei preso Carlo ce ne andiamo Che c'è uno che ci sta molestando Andiamo andiamo Arrivo Ecco E' un altro Un'altra volta questi che ci inseguono Non si può mai star tranquilli eh Ci stanno inseguendosi Guarda questo guarda guardalo guarda Guarda questo dietro Premi muscolo C Guarda questo rotto in culo E' inchioda Inchioda Inchiodagli in culo Guarda inchioda adesso Stiamo fermi dai Che c'è? Dicci Cosa c'è? Che vuole lei? Che vuole? Sono amico Sono amico Ma chi c***o ti conosce Carlo teser Non posso da dentro la macchina Ti tesero eh Andiamocene vai Entra entra Ecco Ha portato via i coglioni Bucagli le ruote Ma non posso col tesero Vai 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 Ancora Farlo bucaile da dentro la macchina Stammi a sentire Tanto la macchina è ferma Puoi farlo Da dentro la macchina ferma Puoi farlo Ma non posso bucarle con taser Sì sì Fidati di me Fidati Oh prendilo 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 in faccia Prendilo in faccia Prendilo in faccia Ok 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 Ci stiamo seguendo Dai Bucagli le Ferma Ferma Oh Anzi Spara proprio a lui Spara a lui Non posso Non posso Non posso Perché? Devi avere la macchina ferma Ecco Sei ribaltato il gioco Vai vai Gira a destra Gira a destra Fermati Fermati E poi appena giro la curva Sta arrivando No Vai proprio indietro Che non vedo No Abbiamo perso Abbiamo perso Andiamo via Dai Ci facciamo uno spino Ma secondo te c'è qualcuno Al club? C'è qualcuno Al club Mi chiama Max Un attimo solo Pronto Pronto Max non la sento di nuovo Deve fare la stessa combinazione Di prima Max Alt N Ah ragazzi Vogliamo comprare una maschera? Ma Sì 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 Io mi sa che chiudo gli occhi Ragazzi Dai Altre dieci minuti Venti minuti Mezz'ora Eh sì Sei ore Sei tre Maschera Maschera Complati sta maschera Però Io già ce l'ho L'ho acquistata A questo Ma io non ho una lira Non ho i soldi Me li hanno rubati Non ho i soldi Mi piace Mi piace? Mi fa paura? No E sti cazzi Andiamo Toglietevela Che ci fermano Qual è il muscolo? Shift 8 Ok 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 Truffa del pilone Ha sempre costato Non ci ha mai portato Ma ragazzi Allora Posso chiedervi una cosa Posso chiedervi una cosa? Posso chiedervi una cosa? Potremmo fare botte come i falliti A botte in giro per la città Facciamo qualche soldo No? Pronto? Max Mi sente? Sì Dove sei situato? Sì La sento forte e chiaro Dove? Arrivo Siamo lì vicino noi Potremmo provare ad andare Siamo al molo noi Siamo al molo eh All'aeroporto Dovrebbe essere Siamo sempre qui nella nostra zona Questa è la nostra zona Ai studi cinematografici Ah ok Arriviamo Va bene Vuole girare un film Max Eh Immagino Non sono dritto di qua I Fantastici 4 Cazzo fai Che è un film da paura Eccolo Ovviamente Sono delle macchine incredibili Max La piazzetta Italia Dove siamo? Merico ma l'aspetti Di portare un invisibile? Ah Siamo qui Su Burras Su Burra? Ah Max Enrico Enrico fai spalla Dai Leva questa cazzo di spalla Dai Enrico Dai Senti Enrico Enrico Lo stesso problema tuo del telefono Di come risolvere Eh Slog e riloga dal team speak muscolare Vuoi anche fare Altenne No Non funziona Ma io non riesco a fare un cazzo Vabbè Max Se ti sentiamo da qua? Che andiamo da qua? Max Ma Max Ti sento? Tu mi senti? Sì Al di fuori del telefono non ti sento Non so perché non mi funziona la voce fuori dal telefono Eh l'ho fatto un milione di volte Non funziona Mi ha funzionato la voce per un attimo Esci rientra da TeamSpeak Max Eh l'ho fatto anche prima Non funzionava Noi ti sentiamo così eh Mi sentite Eh solo se si perché si attiva quello che ha tutto Mi vede Vieni intanto con noi in macchina Max Facciamo la giuffa del pilone Via via col vento Occhio 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 Non ci stiamo Dobbiamo usare questa Volkswagen di merda Truffare il pilone Che non serve a un cazzo Dobbiamo trovare un'arma porca puttana Un'arma da fuoco Da sparo Ma no ma scusami col taser Io devo andare a fare il porta taser Ma col taser possiamo fare un sacco di cose No non possiamo fare nulla La gente non può avere a parlare di un taser No è più di una taserata Che cazzo gli diamo col coglione No ma lui ti picca Ah dici che se Eh Truffare il pilone Truffare il pilone ma non c'è nessun pilonaro Dobbiamo andare forse verso gara centrale Ma scusami scusami Ideona Andiamo a fare la mariguana Come dice Qua forse c'è attività Qua c'è un'attività eh Sì Quello della Lambo Vedi? È morto è morto ragazzi È morto c'è un medico che lo sta sano Aspetta che mi faccio un po' qui C'è la maschera questo Il coglione che ci seguiva prima Non lo so se è lui Non lo so La maschera Non possiamo capirlo Sì sì è lui È la sua macchina La sua macchina No ma non è lui È la maschera Non sappiamo nulla Andiamo a cercare dove si fa la mariguana ragazzi Eh ma la macchina Non sappiamo la targa Ce ne sono migliaia Vai via da qua Vai via Vattene a f... Ancuno Non lo seguire Ecco guarda qua Non lo seguire Grazie così Ma è un uratenente Tu fare il pilone Ma andiamo a chiedere Ragazzi andiamo a chiedere dove Dove è la mariguana Ci serve un'arma a fuoco Per la mariguana Io vorrei... Sì lo sai che ci fanno Sì 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 Oh Eccolo Max Che ti è successo Max Eh mi era finito Moscerino in gola Ah Non è che non hai preso Le tue pillole No Ma quelle mi sa che non le piglia Già da un po' Senti Scusa Niente Ma cosa... Che cazzo facciamo? Andiamo a cercare la mariguana Andiamo un attimo Al posto dove si mangia Che io prendo un hamburger E poi facciamoci dire Dove si fa la droga Eh mettete il pallino Eh piaccia la centrale Max ma che fine ha fatto lei? Eccomi Back in town E via Comunque io sarò anche un criminale Ma la polizia qui non lo sa proprio fare Il suo lavoro Dovrebbero cambiarlo Dovrebbero fare gli sbirri Dovrebbero fare i criminali Sarei più bravo io Come sbirro Ah un piccolo frinco Già Candida sia sindaco Candida sia sindaco Candida sia sindaco Singalo Chi è il sindaco adesso? Walter Beltroni Beltroni Ah ma ho capito allora Adesso ci sono i medici In teoria potremmo fare il porto d'armi Perché dobbiamo fare il quiz mentale? Esatto Per dire che non siamo pazzi Loro ti rilasciano il certificato Di salute Poi vai dalla polizia Eh ma l'ammunition è chiuso forse Vabbè iniziamo a fare il certificato Così ce l'abbiamo per il futuro no? Dobbiamo diventare la malavita Mi sono rotto il cazzo Ma sì ogni volta che arrivano questi Con la pistola Ti ho puntato Devi stare fermo Adesso li facciamo secchi Oh Cosa? Vedi sono sparato Chi? No 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 Cazzo ne so Ma No è il taser Ma Enrico ma lei È un po' spento Non so spento C'è un Foto taser È già scato È già scato Che taser a cazzo Sì No 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 È Enrico? Enrico 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 Carlo Ma lei mi ha ucciso Enrico Ma mi ha ucciso Enrico Ma mi ha ucciso Enrico No L'ha ucciso Enrico la teserata No no Lei lo picchiava No no io no Non l'ho picchiato Non l'ho neanche preso col calcio Chi è lei? Un medico? È molto Enrico È molto Enrico ragazzi Urge un'ambulanza La chiamo Oh Come l'usanza che non mi ricordo più qual è Provi a prenderlo a piccate Magari si sveglia Culo in bocca Come diceva Oh Culo in faccia Tremon Culo in faccia Tremon Oh Oh Nico Pandetta Ero tentato di avvicinarmi Con il casco E diretti Una cattola in faccia Potete Slash Cosa? Grab Com'era? No no ma Tanto siamo fuori all'ospedale Lasciamo Te l'hai inculata Cosa? Oh bella sta Ferrari Aspettiamo qua Bella Piloncino Oh ma che fai Cammini sulla Ferrari Cammini sulla Ferrari Ma è un pezzo D'olio italiano Ah non è neanche tua No Oddio Mamma mia No No Ma non ce l'ho io Il macete Sì? Dica No Aspetta Inseguirci No Guarda che macchina tiene Ragazzi Ragazzi ma questo Questo qua col calpuccio È un pazzo Eh Tu mi hai rubato il macete Ridammelo 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 il macete La setta si vendicherà La setta si vendicherà Di chi è l'R1 Di chi è l'R1 Di chi è l'R1 Questo mi ha rubato il macete Scusate Questo mi ha rubato il macete No no Caro scusa Ti posso chiedere una cosa Ma con calma Ecco Raffa Eccomi Eccomi Hai detto il ragazzo Che ti sei rubato il macete Ma no no macete Perquisiscimi Sì Va bene Perché 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 ho poca vita E mi tiene i pugni Questo pazzo Ma no no Mi sape il macete Io sono un frate Non ti voglio picchiare No mi stai picchiando A due ore No non te le faccio mettere la mano addosso Calma Ma se prima mi hai deserato Perquisiscimi Signore con la cavatta Ma tu già va come sei vestito il macete Non ti voglio dare indire Sei a nulla Sì ma guarda che Immagina quello che con un fulgone nero È pazzo Ma tu con le pinate a piede Non so Ma io sono un youtuber Ma si conosce Sono un youtuber Tu sei un peccatore Oh no Fede Posso mettere a scappare da ora No Non ci provi Non ci provi Dei stas costa Tremona No 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 Hai sgravato Hai sgravato Hai sgravato Fisciazzi Via da qui Via da qui È sgravato Prendetelo Oh oh Fee 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 Non gli metterò nello addosso Fee Bravo Andami il teaser Andami il teaser No No perché No Oh Napoli Lasciate stare già a scappare No ciao Oh oh Dottoressa sto per morire No in realtà sono 5000 In ospedale sono 3000 Esatto Esatto Anche prima della patria Oh che fa questo con la maschera Va bene Spostatevi se non volete la fattura Io voglio una fattura per favore Vai vai la faccia la faccia No bisogno di cure veramente Eh ho capito però devo fare una fattura signora Un attimo Spostatevi devo fare una fattura Che fai con la maschera? Signorina Una persona che non sta bene qui Un attimo Vi mettete in fila Ragazzi non ce la fa Vai signorina Ragazzi mettetevi in fila Santo c'è Vabbè signorina Faccio la fattura Ti vuoi dare il macete Così si risolverà Ma perquisiscimi Guarda No no Non ti voglio mettere mai addosso Ma non ce l'ho io il macete Ma perché ti stai silando a te Ma che pazzo È da tre ore che glielo dico La setta si vendicherà Ma non ce l'ha preso Lui è il cazzo Ma non ce l'ha O lui O i suoi amici Sì ma non mi picchi a me Ma i tuoi amici sono quelli che dicono Napoli Sì sì Sono quelli No nessuno dice Napoli qua Sì 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 Ok lei ha bisogno di due bende Siamo criminale Criminale Sì portiamolo via Facciamole un rito Niente rito Non voglio nessun rito da parte sua Ma non lo decide lei Max cosa sta facendo lei Ma io sto portando appresso Enrico Lo è suscito io Io sono Dio Dio in me Mi sa chi è dico ha chiuso gli occhi Io non mi sento molto bene Max Siamo nel posto giusto No no Non mi faccio mettere le mani addosso da lei Sto scrivendo l'importo Non lei Spostatevi 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 Arrivata la polizia Spostatevi Arrivata la pattura Arrivata la pattura Può spostare Vi dovete spostare Si sposti Max Si sposti Spostatevi Si sposti Max Qui indietro Ok Chi è questo che tengo in spalla Io io Non riesco Ok Quello che hai in spalla è malato o sta bene? Io sono molto malato dottoressa Eppure mi sta parlando Lo metta giù No non sono così malato ma sto per In che senso sta per? Eh sento che sto per morire Ma qua Perché dovrebbe star per morire? Perché la mia salute è zero È a 1% Allora un attimo Un attimo Non ho spazio per gli scherzi Perché ho tantissime chiamate Quindi mi dica che cosa ha preciso E' conciso Dai Ho mal al cuore Quasi da fare un salto e morire Signorina Quella una cura pesante Idea quella Va bene Spostatevi così Lo molli sto scemo di merda Dai No Lo puoi per cucire Max Ehi E il pervertito amico tuo No mio Faccia fare tu quattro chiacchiere Io non c'ho niente da dirgli Gli ho già detto tutto Ma chi è il pervertito che è amico mio? Dottoressa c'è un uomo a terra Grazie dottoressa Grazie mille Sì un attimo Spostatevi un attimo Che devo fare la fattura Fermi Ma signora ma lei cosa fa quella maschera? Spostatevi Max si sposti Si sposti Che c'ha la maschera? Cosa fai? Grazie dottoressa Peccatore 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 Max Io non ti voglio i tuoi I tuoi nemici qua addosso Ma sono i miei nemici? No è il pazzo Guarda qua Guarda il pazzo E la madonna Andiamo via da qua Scusi dottoressa No 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 Scherzavo 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 Via 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 Oh questo sta scassiando la Ferrari Ok Eccoci eccoci Dov'è il nostro amico? Ah dov'è il nostro amico? Tu hai il numero di Damiano? Sì lo chiamo È il macete Max Non mi pare Ah Segreteria Forse gli è successo qualcosa È successo qualcosa di... Oh eccolo qua Chi è? Hai il macete Max? No ho la mazza E il contello E chi è che è il macete Di questo pazzo? Ma chi è il macete? Nessuno Senti vieni Vai indietro Portiamo il pazzo Nei campi Portiamo il suo pazzo Nei campi Vi facciamo la truffa Del pilone Ma ha mai funzionato Questa truffa Ma non l'abbiamo mai fatta Mi scusi dottoressa Ancora? No no Ha visto per caso Quello incappucciato Che sembra un pazzo Io tra l'altro Avrei da chiederle un certificato No 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 Non l'ho visto no Oh grazie della macchina ragazzi Ma ha visto per caso Il pazzo col cappuccio? No no Salve Salve Max Eccoci Come si chiama Lei di cognome Max? Power Sono Max Power Mi sembra una citazione Ai Simpsons Vai prendiamo questa macchina Grazie per la macchina Ah non si riesce a prendere Guardi che Ah non si riesce a prendere Prendiamo un ruttame E cerchiamo il pazzo Il pazzo della setta Cerchiamo Ci ha fatto No 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 Max 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 Ti caccio dalla città Bella Madonna Sai Ha visto Scusa Fai pagialla Oh ben dica Hai visto uno Uno Quello col cappuccio Senza i pantaloni Sì Dov'è? È andato a garage centrale Andiamo a garage centrale Max Grazie Fai pagialla Di nulla No 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 Mi chiama questa dottoressa Tutta la città da sola Si fa la poverita Vieni vieni Truffa del pilone Max Qua 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 Intenzione Oh finalmente Ma che scambio Che scambio di macchine Scusatemi Che cosa Che senso Che senso mi ha Che senso mi ha Questo scambio di macchine Grazie centrale Grazie centrale Grazie centrale Molto bene Damiano credo sia morto Alla segreteria Giusto? Sì Posso provare a richiamarlo Vada vada Un attimo eh Adesso ti faccio vedere Un piccolo trick Questo non è volare No no Buona morte Max Oh no Bravo Fermo qua Dentro dentro Bravo Vediamo se viene Quello della setta Invochiamolo Animo Dorime 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 A meno A meno A meno Dorime Le mani al cielo A meno Vivere Vivere Muscolo X Max A meno Dorime Dorime A meno A meno A meno Dorime 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 A meno Dorime 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 Oh pronto Eh beh, ma te li provo Che è inevitabile Eh ma se non sono Se non sono permallosi, te l'ho detto Non sono veri napoletani Allora Sono qua Siamo qua a gara centrale, se vuoi A posto Ciao ciao Max, l'ho lavata la macchina Sono 50 Ma ecco Eccola Ho invocato Ho invocato le persone sbagliate Forse Max, Max Max Cosa ti ha detto Damiano? Non ti sento più Max Alza le mani se stai parlando Ah Non ti sento, non ti sento Max Ti aspetterò qua Ti aspetterò qua Ah, quello vestitino di blu È l'amico di quello Con cui abbiamo avuto lo scazzo Pronto? Yes Ti sento Pronto? Ogni volta che fai su una telefonata Mi si Vogliamo di scambiarci una macchina ragazzi? Non l'ho capito Sì, sì, va bene Vai, vai Scambiamoci la macchina Scenda, scenda Vai, vai No, scenda, scenda Vabbè, ci hanno fatto la truffa del pilone Eh, vostro amico stava per caso all'ospedale Sì, lei è sceso da una macchina E noi siamo saliti nella sua E lei è salito su un'altra No, no, ma è impossibile Sì, sì Lei era tutto arrabbiato Scazzata all'ospedale Con il suo socio Con il suo socio Era tutto scazzato Eh, era un mio nipote, penso Ah, no, mi sono sconfuso Va bene Noi stiamo aspettando un amico Va bene, va bene Arrivederci Non cagate pure dal casino Max È il cazzo piccolo Perché questo SUV lo dice, eh? Ma ce l'avrà chi l'ha comprato Io sto SUV lo uso Non ho capito, signor youtuber Mi dica Non ho capito cosa esclamato Ma te non hai capito molte cose, caro Ho detto che Max è il cazzo piccolo con questo SUV Max? Sì, le sembra un SUV, mi scusi, la sua macchina Se ne intende di macchine? Io, sì No, è il SUV, questa macchina È da chi è un cazzo piccolo Se ne vada, per favore Non devo capire di niente, per favore Mannaggia, capitelo Oh, guarda che bella macchina d'epoca Max Mannaggia È inutilizzato Ma ci vogliamo comprare una macchina d'epoca a quattro posti? Non sarebbe male, come dire Noi stiamo aspettando ancora un pazzo Però mi sa che dovremmo fare un leasing Una collezza Ma guarda che non costano troppo le macchine Se ne è pieno di macchine di lusso Vuol dire che non costano un ucaz Vero Senti Damiano Ah no, ti si bagga se senti Damiano? Eh sì, prova a sentirlo tu Mi riesce a dare il numero? Sì Allora C'è l'ho, c'è l'ho, Max C'è l'ho, c'è l'ho Max Mi senti? Non ti sento, pronto? Check telefono 1 Non ti sento Ma signore, cosa sta facendo lei con il taser? Oh mio Dio Ma che è che mi ha investito? Ha ucciso Carlo Ha ucciso Carlo Pezzi di merda Ma non lo so Portiamo all'ospedale? Ma Ma Signore Che l'ha successo? Ehm Ma Dux, mi hai investito tu Ehm Ma come mai è svenuto e parla questo signore? Oh 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 Dove sono? Ho le visioni? No mi sa che mi ha investito Madux ragazzi Sto andando verso l'ospedale con il signor Pinna qua Che so, ma hai preso un bel colpo in testa questa ragazza? Sì 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 ma Sì ma è stato Non so perché ha sparato in testa quello là E' questo che Ok Lui a parte che non doveva teserare dai No ma qualcuno mi ha investito Non ho sparato Ho sbaglio Sì ma davanti a tutti così E' un po' un coglione quello là Dai vieni vieni a sparare Ah mi hanno solo sparato Ma chi è che mi ha investito? Mi hanno sparato due volte Ammazza quanto pesa sto qua Ah ma questo signore che ho investito io ieri Non credo Ehi chi è che mi ha investito prima? Madux o gli altri due? Non voglio lavorare con questi dottori Se è Madux è uno scemo E l'ho sbagliato io Se no se loro mi hanno investito io li potevo teserare Mi hanno investito Qua nessuno che ha voglia di lavorare Chi? Ah sempre quei due ok No io non sto parlando Non sto parlando Ho sbagliato Aspetta fammi spostare il ragazzo Caro scendi dalla macchina Ma perché metti un corpo sulla mia macchina? Che cosa stai facendo? Ma perché hanno detto che glielo stai insieme Ma ti tiro giù dalla macchina Ti tiro Non potete parlare È vero è un buco in testo Oh ti tiro giù dalla macchina Hai capito? Capisci l'italiano? Ma a me stai dicendo Max è stato zio Eh certo E non ho la video scusa Ti tiro giù dalla mia macchina Dai che me la sporchi Comunque grazie Blanche Grazie Grazie Ah beh Max Non puoi parlare Ok Dai ragazzi ci sono gli alert normali Perché mi stai scaricando il telefono Comunque Secondo me è onesto Cioè ci sono un po' di fail RP Però Ci sta Non possiamo andare Non serve troppo serio Perché se no ci mettiamo un sacco A far tutto E Siamo veramente scarsi Così ci sono un po' di fail però So che vi arrabbiate Però secondo me è meglio così Però Ovvio Se non si può investire E' avere un parcheggio Sì era in un parcheggio Non si potrebbe investire Sì se Maddox vuole fare la stream squad Va bene L'unica cosa è ovvio ragazzi Che noi siamo dei fan cazzoni Cioè praticamente Ne succedono ogni Di tutti i colori con noi Di tutti i colori E siamo proprio Gli ultimi degli ultimi A fare RP Però Secondo me Siamo più da Casini in RP Che da RP serio Secondo me Non facendo solo RP Ha senso più Una Una situazione di questo genere Ho le mie cose Ah ho già Un buco in testa Ci credo che Perdo sangue Dovremmo fare i soldi Sì Quella è l'unica cosa Che vorrei fare Qualche soldo Per qualche pistola Che abbiamo avuto Nella storia di GTARP nostra Ma sempre abbastanza raramente Secondo me Interessi Cioè Se stiamo Cioè Si potrebbe fare In poco tempo Fino a che ora resti Credo fino alle 4 Sicuro Poi Ma chi è che ha rimosso PogChamp Twitch Perché? Perché? Ah Rimuoverà anche Trial Perché li reputa Razzisti Grazie Grazie Dottore Cioè Cos'è Un miracolo? Ah Grazie Minchino Grazie Non so se sia stato lei Non ci preoccupi Grazie Gesù E come si dice Da queste parti Bucchine Cozze Fanno i figli Belle Grazie Buon lavoro Gesù Non sono Gesù Buon lavoro Come si chiama? Orazio Buon lavoro Orazio Salve Occhio alla catena d'oro Perché qua No è di ferro E l'orologio? È un Caduto dal camion Caduto dal camion? O è vero? No è vero È vero È un Daytona vero Ma occhio perché qua Fanno a botte ogni due minuti Mi pare che io possa Stranamente fanno a botte solo con lei Chissà perché Perché sono con le pinne Quando si avvicina Chi di dovere Non si fanno più Grazie ancora per prima Ma lei mi ha salvato Non ti preoccupare Ancora Io ho bisogno Una cortesia Tu ce la coprò Vero? Ho dato al poliziotto Domani passo tutto quanto al No no Adesso Adesso Perché queste persone Adesso le devo punire Sto passando tutto a cage Andiamo Andiamo Perfetto Allora ragazzi Mi raccomando Cercate di rimanere più Diciamo lontani possibili Da queste situazioni qua Eh ma io stavo Non so cosa è successo Lo so Lo so Lei si levi le pinne Per cortesia E cerca di mettersi Un paio di scarpe più adeguate Va bene So che non le piace lo stile Sarà fatto Grazie Arrivederci Ciao 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 Giascarlo ci sei? Ci sono Ci sono Prima mi è successa una piccola gag La vuoi sentire Aspetta ma Max Power? Eh lo chiamo Max lo chiamo Volendo lo chiamo Lo sto chiamando a telefono E qua dietro E qua dietro E qua dietro Dov'è? E' uscito dall'ospedale Max 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 entra Non è Max questo Sì Max No non è Max Sì te lo dico Max Marca puttana non è Max Max Dai ma sali sali Max Non siamo Max entra Max Ma sta macchina è inglese Max entri Entri Max Mettimi la destinazione Vieni vieni Max Vieni Vieni in macchina con noi Hai deciso Ma lei è Max Scenda dall'auto Scenda Dov'è che va? Che gliela riparo Grazie Max Max Vieni Dove hai compiato quel bolso di Max? Max ma ti noto un po' cambiato Ma tutto ok? Cambiato una veglia Ho cambiato Ah non è Max Grazie Ci ha riparato l'auto Grazie Prego Bella come nuova Aspetti Ma Max è dentro l'ospedale? No Carlo Si sta Ma mi scusi Non l'è Max Lei ci può abbandonare Gentilmente Sì di voi che mi hai detto Vero male E abbiamo sbagliato Sa dov'è Max? Si sta arrivando Grazie Ciao Milla tipa Mi ha appena lasciato Vorrei Comunque I napoletani di prima Che gli ho detto Quei Napoli Quelli mi hanno venato E comunque nulla Io ho cilato la macchina Questa è la macchina loro Ma scusa Ma cos'è successo Io non ricordo bene Ma forse sono stato investito da te? No Da me no Io non c'ero proprio Io sono andato Anch'io a miglior vita Ah ok Eccolo Eccolo Non è Max Ehi bello No questo è quello là Bello E' quello che ti ha menato Vieni qua Fermo fermo E' lui che cercavamo Bello Sì Vieni qua Mi dica Sali su Sali sali Vai cerca Max Non faccia domande Sali su Stai zitto Dov'è Max? Chiama Max? Chiama Max? Lo chiamo Ma io Allora non mi ricordo Non so se faccio Un fail medium Ma forse Si trova in fin di vita Come lo ero io Poco fa Eh si Anche perché non ho più Grazie Omi per la compagnia Continua fino alle 8 Grazie Non continuerò fino alle 8 Continuano fino alle 4 Sicuro Poi Non farei le 5 Fino anche Mi senti te Investito Te lo dicono sicuramente Io ti do la conferma Sei stato sparato addosso Ti hanno sparato addosso Ma vai ad ospedale Vai ad ospedale Che fosse ancora lì Anche Max è stato sparato Ma guardi Io non volevo fare il sensitivo Bella Omi Siamo usciti una volta Io te uo Snasca E tizie Ma qualcuno è il mio macete Me la ricordo Pesso di me Lascerate a porto a casa Eh allora Hai smesso di rompere i coglioni Hai visto che non ce l'avevo io? Brutto Bastardo Pedofilo Non ce l'ho io il macete Ce l'ha Max Rimani in macchina Rimani in macchina Esce Questo qua lo teniamo? Mi sta terapeuti? Si si lo teniamo No no Perché non hai nulla Sei infallito Rimani in macchina Tanto non hai altro da fare nella vita Mi scusi Mi dica caro Non vorrei risolvere ancora Ci dovrebbe essere Un mio amico In fin di vita Da qualche parte In qualche stanza Lo stiamo aiutando proprio ora Ah grazie Lo sta proprio adesso aiutando caro Grazie Purtroppo è solo lei Quindi diciamo Le tempistiche sono un po' più lunghe Ma infatti la vedevo poverina E infatti Proprio perché da sola Ci dovrebbe essere Un po' più di rispetto Dalla parte dei cittadini Cosa che non tutti Riescono a fare Proprio per questo Stiamo prendendo un po' Di provvedimenti Perché hanno rotto Ma scusami Ma almeno avrà un aumento Questa ragazza Non te ne preoccupare Li regalo io qualche soldo Ma lei ha ancora queste pinne Stato Ha un po' da cittadini Sì ma le sono passate Cinque minuti Mi dia il tempo Mi scusi eh Ah Ma infatti Ma infatti Ma infatti Io vorrei cambiare questa maglia Da fallito Sembro proprio uno di quei ragazzini Tra dieci minuti Ci sarà il blackout Mi raccomando Regatevi al primo garage Vicino Ma io posso Quando ci sarà il blackout Faccio Ma faccia come cazzo vuole Basta che quando ritorna Vada in un negozio Si mette delle scarpe adeguate Ma non le piacciono O non sono consigli Io non capisco fisicamente Come facciali a camminare E correre in maniera Già se Carlo Io le faccio acquistare Delle Gucci flip flops Guarda se vuole Se vuole La posso aiutare Le pago io l'outfit Le regalo dei soldi Solo se lei si mette In maniera adeguata Allora Io devo dire una cosa Però Vedo sinceramente I gusti sono gusti Però se Ma io non sto criticando i gusti Però diciamo Che le pinne sono fatte Per andare bene in acqua Non sulla terra Eh ma io devo Lo sa Allora Non so se Lei quanti anni ha Per curiosità No 57 Allora lei forse non capisce I ragazzi Ora C'è questa vada Degli youtubers E io per fare dei likes Sui miei video E i miei fanbase Mi spolliciano Mi metto le pinne Così i ragazzi mi dicono Ah è con le pinne Il signor Giascarlo Guardi qua Aspetti eh Facciamo una cosa Signor Giascarlo Contento lei Contento tutti Va bene Eh lo so che È difficile Cambinare Ma io sto lavorando Ora non lavoro Quanto cazzo Vai questa macchina Qua zona personale A dove vai questa macchina È scappato Il coso Ecco Lo vede Ecco Faccio la intro Ora sono in diretta Esatto Ciao a tutti ragazzi Ben ritrovati oggi in questo nuovo abitannamento Stiamo qui all'ospedale perché sono stesso lo schifo Tante persone oggi voleranno dall'aeroporto Promessa di Orazio Coppola Scusami Orazio C'è qualcuno che ti parlava sopra Grazie Non so se lei vede il mio flash Ma grazie Ciao grazie Complimenti per il suo lavoro Signorina Arrivo arrivo Adesso ti stiro sotto Max Questa è la macchina concellato ai napoletani Ti piace? Occhio 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 Comunque guarda chi c'è in macchina con noi Che bello ci sei Stai zitto figlio di puttana Oh madonna mia Sì adesso lo sgobbiamo sto bastardo No no non lo sgobbiamo Mi potete lasciare qui nella mia chiesa? Pussa via Francescano No no mi faccia guidare Mi faccia guidare Lo vogliamo lasciare? Oh questo è un golf club No no mi faccia guidare Maduz Eee Orazio No resti vicino a me lei Con quelle coscione Mi chiamo Annaggia la puttana Mi sono diventito Salite 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 Oh Max ma che cazzo vuoi Andiamo andiamo in chiesa No ma no no non dobbiamo far guidare lui Ma che stiamo facendo Non mi chiamare più armando altri nomi del cazzo eh Mi girano i coglioni Ma perché si è ribaltata la situazione ragazzi Siamo proprio una banda di falliti Mi chiamo Giordano Allora come si chiama Allora Non sono un pedofilo Sono un frano Allora Allora Francescano Francescano Ferma la macchina e scendi Fermare la macchina e scendi No Francescano Allora siamo una banda dei falliti Ma perché siete così aggressivi? Mi faccia guidare Ma le Entri No non picchi Non picchi Che cazzo volete? Signori No andate lasciateci stare Non rompeteci Non vogliamo i vostri volantini Di scettologi Dai questi ci devono seguire Dai che era un puttana di coglioni Andiamo a fare un bel rito satanico No Sì è quello che volevo fare Allora Eccola Secondo Vediamo se ci sei Vediamo se ci sei Carlo mi fai guidare No andiamo alla diga Andiamo alla diga con la cazzo Ah senza mani? Eh sì Non vi preoccupate Quedo con le ginocchia Non fare lo spericolato No no Non vi preoccupate Guarda qua Con le ginocchia Mettetevi la cintura Muscolo B Con le ginocchia È incredibile Carlo 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 360 Noscope E via Carlo Sia zitto Mi ero a te i coglioni Damiano Sia zitto Non mi chiamo Damiano Aia Ma io ho una certetà Mi chiamo Giordano Non mi chiami più Damiano Lei è un cafone di merda Giordano È razzista No no Ok dovrebbe essere qua Allora fermi tutti Questa è la metodo Dove Fanno gli stupi Gli stupi Oh ecco Qua è casa di questo Questo parbone Ci siamo quasi Allora Servete Servete di fare Voglio Allora Mi mettete un punto Del GPS Della diga La diga Oh no Ah Volete battezzarvi Sì Esatto Ho capito l'idea Dove è la diga L'ho messo il punto Oh grazie Non so se facciamo in tempo Ma dopo Blackout si rivive Nella stesso posto Ma che cazzo di domanda è Mi scusi Che cazzo vuoi tu Che cazzo vuoi Allora Senti Posso guardare io Carlo Senti eh Io No no non ti preoccupare Ti voglio dire solo una cosa Tu non hai capito Con chi ha a che fare Il livello di pazzia Di questa banda Lo vuoi vedere Non guidare Non guidare Guarda qua Non me ne frego un cazzo Io sono pazzo No 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 Non ammazzarlo No 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 Hai visto anche tu Sei un pazzo Porca puttana Mi sono rotto tutto Anch'io Non ti preoccupare Lo so Siamo pazzi Lo si fa per la fede Ora dobbiamo ritornare su Mi faccio chiamare un attimo gli altri Sia qua Sia qua Va bene Ah ok No no Lo portiamo con noi Vieni vieni Siamo pazzi noi Vada a fanculo No no Entra Entra Doveva un attimo capire delle cose Mangiati la polvere Bastardo Oh Aspetta Mi è arrivato una feed È appena uscito Un video di C'è dentro di noi No è appena uscito Un video di Enrico Dose Fammelo guardare A me piace molto Donalberto Non so se lo conosci Zitto cafone Zitto cafone Donalberto non si nomina Ok Non le andrò a mentire Non andiamo in mezzo alle terre Max no c'è il blackout Fermiamoci qua Fermati fermati Forca puttana max Siamo arrivati Eccomi Pronto? C'è una storia Sì Ma fammo che stai zitto Ma cosa devo fare? Devi stare zitto allora Preghiamo insieme Oh casino No Peccatore Ah vedo un casino Guarda qua La luna è alta Max va Come mi chiamo io Carlo? Just Carlo Come mi chiamo? Qual è il mio nome? Abile palle di rispondere Fermati qua Sì 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 Ecco Salite 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 dietro No va bene qua Vieni Francescano C'è un punto più adatto Un po' più avanti Un po' più avanti Vieni 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 Va che chiamo gli amici napoletani Salì Salì Basta con questi napoletani Appena prendi il telefono ti sgobbiamo eh Cosa vuol dire mi sgobbate scusa? Ammazziamo Va bene Posso tornare indietro? No Vieni qua Arrivo Arrivo Ma che state facendo? Vai oh segui gli altri pezzo di merda Ma cosa sta facendo Max? Max Che fai? Eh andavo qui dalla banchigia Dirigo l'operazione Per il battesimo li dovete mettere nudi ragazzi Aredaie Aredaie con questa nudità No Max Non sei notare No 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 Damiano Fermati Giordano Non so notare Salga 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 porco di un francescano Ci Sono tutto bagnato Non mi interessa un cazzo Bagnateli anche voi No Salga salga Venga qua venga qua E' il posto sbagliato per fare questa cosa Venga qua Venite venite La schiena la schiena Ho Ho Cuidate Aredaie piano 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 si è rubato la macchina vieni qua vieni qua vieni qua ve l'ho riportato vieni qua vieni qua allora ci devi spiegare una cosa cosa vuoi allora io faccio una cosa per te e tu fai una cosa per me o youtube va bene no no io non voglio farlo allora no noi ti diamo il tuo macchetto va bene però tu ci devi vieni qua vieni qua così non scappi vieni qua chiedi la macchina max ma se non è manco vostra stasera vieni qua allora dai e damiano dai il macchetto ragazzo no no damiano diocleziano allora no 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 ferma basta basta sto per svenire vieni vieni qua ma ma qua c'è il salto dell'angelo no non salti non salti allora dai dai il macchetto ragazzo domenico sto scherzando sto scherzando domenico bini allora tu noi ti ridiamo macchetto solamente se tu ci dai due informazioni importanti su dove reperire cose che noi non sappiamo i cameretti non sto scherzando ma era una metafora stupido impari seriamente siamo qua uomini dove ma che la giacca strappata ma chi io no no questo qui questo qui che sembra un playboy allora quindi cosa da dirci e non so cosa volete tutta la terra al macete vediamo così almeno si fida allora hai una richiesta max ma scusi lei mi sta rapendo con una pistola elettrica e lei sta andando in giro con le ginocchia nude no 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 fermo fermo se è morto non può parlare allora dacci delle informazioni guarda cosa c'ha ma max in mano guarda c'è un po' di cosa ha bisogno dimmi dite cosa ha bisogno allora dove si può no fermo fermo max fermo max dove si noi ti diamo il tuo macete ti lasciamo andare dove si trovano luoghi di per fare soldi luoghi dove si fa la malavita luoghi per fare la marijuana la cocaina ah ok ok va bene allora cosa mi hai dato in cambio il tuo macete ma andiamo un poveraccio ma l'hai visto a questo appunto è per questo poveraccio cosa ti possiamo chiedere 20 euro oh ma fermo ma fermo max per favore max per favore scusami stanno di merda o uno di vita o uno di salute per favore ma allora vi dico i posti però voi mi ti dare i soldi quanto vuoi scendi giù pezzo di me uno but no togli la maglia del palermo allora questo mi può può discostarsi scusi grazie allora vuole sapere il basilico o la roba di pesante grazzo carlo questo non sa un cazzo parla come parla come mangi amico vuole sapere la maria o la roba più pesante aspetto un attimo fallo scendere giù tesero questo c'è in cura la macchina carlo di nuovo no ma forse c'è qualcuno fermo fermo non è lui il problema e forse c'è qualcuno ma che setta ok fallo buttare giù fallo buttare giù buttati giù ma no ma perché vai sali 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 amico sali saliamo tutti sali sali Francesca fate salire lui per secondo sali vai max vai max sali dopo di lui ok piano piano damiano ragazzi ve lo dico per l'ultima volta non ce la faccio più vi prego di non farmi altro male grazie allora sali da sopra così sali da sopra così almeno noi non ti vediamo no no lascialo lascialo non so niente questo non ti daremo il macchetto non ti diamo i soldi fanno salire da sopra così noi non lo vediamo io butto giù a questo no no la prego no la prego l'avete ucciso ragazzi molto bene oddio oddio aiuto 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 anche te oh c'è un cane aspetta ciao bello allora come lo chiamiamo come lo chiamiamo chiamiamolo sacrifichiamo anche il cane no no il cane no no penso di merda ti ho detto mai giù no 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 portiamolo in macchina anche questo va giù il cane del francescano ma hai preso me no 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 il cane non a bagliare no hai acceso il cane no ok lo è vivo vivo sta bene vabbè no 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 dai lascia in pace lascia in pace il cane vieni bello mi sa ma il passare in macchina il cane ragazzi prova a prenderlo in braccio bello aspetta aspetta e in macchina bello in macchina aspetta oh mamma mia cane sta bene è demoniaco questo cane ti ho un po' maura del cane è bene ad estato oh è bene ad estato oh no è morto no allora lo dobbiamo e buttiamolo giù lo prendo e lo porto buttiamolo giù no, penso di merda muscolo spalla ok, guido io? ah, sì, sì, sì c'è il cane, come lo chiamiamo il cane? tossico non ho idea lo chiamiamo come un personaggio storico chiamiamolo un nome pomposo eh, ce l'ho, ce l'ho ce l'ho, ce l'ho d'annunzio d'annunzio, oh d'annunzio, tutto ok no, no, lo so io come oh, so io come chiamarlo Nelson Mandela bello, bello, bello dobbiamo andare all'ospedale aspetta, aspetta, aspetta ma dobbiamo prendere anche il francescano? eh, forse, sì ma che cazzo dici? oh, Dio, non l'ho fatto apposta scusatemi vai 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 è una mera, è fatta oh, αν è fronte oh, a chi è apposta oh, a chi è Sto cane di merda E' vivo il cane E' vivo Sto cane di merda Sto cane di merda Aiuto Chi è che è il cosciente appena parlato? Oh grazie sigolino Ok piano piano si alzi piano Che brutto incidente avete avuto Ma come avete fatto? Abbiamo sopravvalutato questa macchina E beh Ma il cane non fa le fusa Ok un attimo Ho veduto anche il suo amico C'è anche il corpo di un francescano Vicino alla diga Dopo mi ci porta lei Ok ragazzi Fatevi curare Io arrivo il francescano Arrivo arrivo E ho già provato a premere shift e ma non succede niente Allora c'era il cane di un mio amico delle medie Che è ancora mio amico Che si chiama ancora il cane Adolfo Ok anche lei Ora sta bene Venga si alzi piano Ok Fantastico Tutto ok? Porca puttana Sì ma non lo voglio dire troppe volte Perché poi è tutta una gag bannabile C'è un altro suo amico mi pare Vicino al cane Ma che cazzo di francescano vuole andare a prendere Porca puttana Tutta colpa di questo coglione A lui è il francescano di merda Chi è quella persona di Au Au Oddio Ok si sento meglio Oddio 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 Come si sente? Oh vediamo Si alzi piano 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 Aiuto Ok fate piano Fate piano Dovamo fare qualche passo E ancora lei lassù Quello che si lamentava della sanità Oh Ah Molto meglio Grazie dottoressa Di nulla Ne servirebbe un aumento A questo paio c'è un francescano pazzo Che ci ha portato a fare un dito di suicidio Venga qui Segui Segui ad annunzio Il cane Il cane tartufone Visto lei che si lamenta della sanità Qualcun altro sarebbe venuto qua in fondo a riprenderla Che che si lamenta della sanità? Il tizio in giacca di conne Ah Max A Danny Zuko qua No io mi lamento del fatto che pago le tasse Quindi pago anche la sanità pubblica E continuano ad arrivarmi dei conti salatissimi Beh Ho una soluzione anche per questo Smetta di buttarsi giù Era un passeggero Dove dobbiamo arrivare? Eh sta la focce Questo si è Oddio Venga l'annunzio E qua sembri a stare in una delle tre cime di Lavareto Forse è bene guardare il fiume eh Oh Beh l'ho detto Le vogne il francescano Dove sei il francescano? Eh credo che il francescano sia stato mangiato dai maiali Dov'è? Eh era qua ma credo che l'abbiano portato via i famosi maiali di Fogna Aspetti eh Ci siamo fatti sta strada per niente quindi Eh Max era qua no? Sì Spero proprio che fosse qui Sì mi sa E allora l'ha portato via la corrente dell'acqua Eh credo proprio lì sì Grazie comunque signorina Di nulla chi si occupa delle fatture? Il mio manager Max È quello in giubato? Sì sì Perfetto quindi sono 15.000 Giusto per ricordarlo Aspetti 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 Sì sì è morto Oh ole Rafting È morto è morto Mi sono portato via dall'acquotente Ok io vado È un grande Grazie signorina Grazie per il suo sostegno Non buttarvi più nei fiumi Ma no ma guardi guardi Allora Io non mi ricordo niente Ma è stato un misunderstanding di guida Lei ha visto la macchina Com'è la conciata Sì è esplosa È stato un misunderstanding Con questi sub E questi esterati Abbiamo avuto troppa confidenza E è andata così Riperguagliamo il guado Va bene Io vado Guarda qua il cadavere Oh 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 No 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 Carlo Ma mi sa che è ancora qui Non lo troviamo Cazzo 15.000 Di fattura Porca puttana Quello È il caso che tu Incominci a far A farci fare delle entrate Con quella roba Guarda non ti andrò a mentire Ma te non guidi più eh Stavi guidando te Ci siamo svegliati qua In un cazzo di canale di merda Ma va a fanculo Poi fanculo il francescano Fanculo tutto Che cazzo fate Per animare Con fottuto francescano Canale di merda Mai quanto il tuo Perché ci siamo svegliati qua Eh per un incidente Perché ho visto la macchina Sarà stato un incidente Sì 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 Mi sa di sì Chi stava guidando Io mi ricordo te No no Non ci si ricorda niente Ciao 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 ragazzo Sì c'era animato Eh sì Tedi il piede Fallito C'era animato un medico Quindi ci ricordiamo Le ultime cose Prima dell'incidente Ma c'è Ma ha pagato Max La fattura Max Perché mi hai insultato E mi hai detto Che è un canale di merda Ma no Lo dicevo a Carlo Mica a te Che cazzo Oh Max Ragazzi Vaffanculo Arte il tuo cavale Youtube di merda Vaffanculo Il cane D'annunzio Come l'abbiamo chiamato Alla fine D'annunzio Le pinne di merda Vai vai Usa le pinne Usa le pinne E' troppo bassa E qui si alza un po' D'annunzio D'annunzio Salve Ecco la dottoressa 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 Ci diamo passaggio Ci diamo passaggio Cominciano ad esserci elementi Un po' troppo strani Forse devo prendere le mie pillole Canne d'annunzio La dottoressa Con l'auto nell'acqua Dottoressa Dottoressa Ottimo parcheggio Dottoressa 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 Mi sa che è scappata Andiamo Andiamo via Io mi prenderei questo mezzo al volo Per scendere Oh No non possiamo Max Max Ma sembra l'acqua park Ma quanto è lungo Sto fiume del cazzo Oh carlo c'è del cibo Eh no Infatti No però sono a metà Tra poco mi va A puttane D'annunzio D'annunzio sta Abbagiando D'annunzio Dici Dici dai Che ci dai Qualcosa Qualche tesoro Figa Aspetta Signora D'annunzio Ci può attendere Trattufi Vai Andiamo dai Eccoci Ci vediamo Questo deve pagare Altro che Tattufi Io sono tutto bagnato Dai che c'è il sole Vedrai che ci asciuga Vai l'annunzio Piccolo salto Ehi D'annunzio Come facciamo Non possiamo abbandonare Un cane in mezzo alla strada Oh Porca puttana Se pesa Oh Oh Ecco Oh Perfetto D'annunzio Facciamo una cosa intelligente Cos'è? Un ipodromo? Vieni 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 Devi prendere L'annunzio Forse Che si fottesse Vieni 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 prendi l'annunzio, prendi l'annunzio non posso saltare andate in un punto sull'autostrada a caso si ti ho messo il punto destra mi dispiace l'annunzio è stato bello finché è durato cosa diavolo volete fare ragazzi? nulla ah perché hai chiesto scusa d'annunzio? eh adesso vedrai purtroppo non possiamo purtroppo non possiamo permetterci di mantenerlo siamo tre poveracci trova un pilone di servizio più avanti più avanti vai più avanti questa si chiama la truffa del padrone ecco qua questo THIS è a test grazie Zab da entra in macchina muovi 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 d'annunzio d'annunzio si ha la presa bene andiamocene dai addio no no d'annunzio non ti non non suicidarti andiamo via non voglio vederlo mica morì non ce la faccio no andiamo via non ce la faccio anch'io andiamo lo vogliamo far salire in macchina no no ormai quel che ha fatto è fatto facciamo salire in macchina d'annunzio sei un debole dai che si abitua un cane dai faccio salire in macchina d'annunzio max 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 ormai ha deciso guardalo è contento dai contento guardalo già ho trovato un amico addio torna indietro max ho cambiato idea torna indietro max bravo max ecco dai non si può fare tre uomini una gamba senza il nostro amico Enrico eccolo eccolo denunzio denunzio eccolo max alletta denunzio non ti è in macchina cesso dai sali in macchina si un attimo vai entra come fanno gli umani sarai un cane un po' stupido eccolo si bravissimo bravo andiamo 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 un po' strano un po' strano d'annunzio dove l'abbiamo annunzio cazzo un po' strano un cane un cane molto intelligente si l'abbiamo salvato d'annunzio chi li sta porta però eh sarà un bel caffone come cane non ti andrò a negare dove stiamo andando a farci una città al lago con l'annunzio pezzo di merda di un cane guarda te oh ok eh potremmo andare al lago volendo andiamo al lago andiamo al lago e poi andiamo al lago magari troviamo qualche oh ci sono delle manette ah il carcere oh facciamo guidare il cane eh dai vogliamo far guidare a costa di qua vogliamo far guidare il cane no facciamo guidare il cane d'annunzio via qua ti apra la porta vai aspetta vai d'annunzio ora ci lascia qua a noi vai d'annunzio vai vai ci arrivi dai pedali con le zampette non so se ci arriva no mi sa che non riesce apri la porta d'annunzio ah ok piccolo bug guarda sti caffoni Max ehi volevi lasciare l'annunzio guarda questi caffoni ad alta velocità ma io io lasciarlo siete voi che avevate l'idea di lasciarlo sono quello che è tornato indietro a prenderlo Giascarlo vuole anche far alzare il francescano figa sì vabbè dov'è l'uscita per il lago? qua sulla sinistra prendetevi le vostre responsabilità ma c'è qualche aereo che possiamo rubare per un giro panoramico? no sì no non lo so mica un aereo signorizzato no ecco che puzza di merda chi l'ha mollata? d'annunzio chi è che l'ha mollata? d'annunzio d'annunzio non mi sparate no no ho sbagliato con la prima finistrina è il lago a sinistra lo vedo oh che bello oh oh sì aspetta un'uscita magari ecco ecco oh 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 la sto scema no si preoccupi oh magari eviterei con questa macchina di andare lì eh eh sì bisogna saperla portare vaffanculo ecco qua a sinistra c'è una strada ma c'è un mcdonald's un qualcosa qua sì cos'è quella quella emblema musicale lì davanti del gps ma che no ma che fai ma il fimo che cazzo fa aia sono caduto dalla macchina meglio seguito io oh zitto d'annuncio ti sei messo anche davanti porca puttana dove stiamo andando ah c'è qua un qualche un karaoke un karaoke? qua a destra cos'è? studio studio di che? cantiamo una canzone oh grazioso no Max no cosa fa Max? abbi rispetto per l'alcol qui invece? oh e ci siamo? mettimi una base e non so come si usa una base del cazzo dai dai oh arriva arriva Max mi rompi la strezzatura porca puttana sto cercando di farla funzionare ecco mi sa che è rotta adesso arriva arriva grazie grazie ok 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 figli e puttana giordano sul micro e tu se lo snitcho lo faccio su serio lo faccio per davvero figa hai visto? quello è un capone ok sei tu che sei il coglione oh ma porca puttana Max scusa scusa Max non è che sono le piace il genere è sembrato un unicorno va a cantare te va a cantare te porca puttana va a cantare te aia Max state buoni lo sapete che ho dei problemi sono malato eh questo l'avevo notato ragazzi d'annunzio dov'è d'annunzio? c'è un'annunzio? c'è tutta la macchina? ah è una macchina basta non ce la faccio più l'annunzio? andiamocene da qua no no aspetta Carlo meglio seguito io no sono io non sono io a guidare ah ok ok non vorrei far più guidare Carlo sono d'accordo io vorrei andare a prendere il cibo anch'io ma io mi sa che ragazzi mi faccio un piccolo pisolino qua dietro lo facciamo qua un pisolino io lo faccio qua domani andiamo a tornare un cazzo di di pistola perché non ci sono tutti i coglioni appisoliamoci qua dai no no appisoliamoci un po' vicino città allora andiamo proprio in città oh vai a fa' il culo Martino ah vai a fa' il culo tu poi sono Max chi è Martino no scusi Max Raimondo Edmundo guarda ti fai superare anche dagli adcp la marca fa cagare siamo arrivati? non siamo arrivati Max e adesso? no no e adesso? no no non ancora manca un po' ma più o meno tra quanto? 5 minuti fuori musica? vai mettila no no che poi qua dietro Max si arrabbia ti sto io qua Max sono passati 5 minuti? no ma il cane ha preso il posto di Enrico vabbè almeno non ci muore come un coglione dai cosa guardi Max? la tua faccia da culo scorbutico no dai penso che cosa? caffone c'è un caffone caffone anche a sgorbutico si no no ma non penso non penso che non possa avere anzi ha anche dei tratti simpatici ma non è bene il caso che essere il mio manager la può comportare in questi modi eh? io sono il tuo manager anche perché ti vedo con occhi sceveri d'ogni illusione io vedo che hai una faccia di culo ma vedo anche il potenziale di quella faccia di culo ah guarda i grattacieli no raffanculo l'annunzio ne ho tutto il cazzo con questa bava di merda siamo arrivati? no guarda davanti ci sono i grattacieli io mi fumevo una sigaretta eh ne hai una si tieni vaffanculo fuma sta sigaretta si 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 grazie ma stai fumando per finta? oh piano io direi di chiudere gli occhi vicino oh oh direi di chiudere gli occhi vicino al bar ecco cosa fai Max? fai il culo i bar sono sobrio ho un sacco di anni questo è quello che ti hanno sparato prima Max lo sai lo ricordi ah ehm Giascarlo questo è il bar dei tizi che ti hanno sparato a garage centrale guarda cosa faccio tribo beccati sto culo guardate ragazzi venite qua vi faccio vedere casa mia aspetta che gli lasciamo un regalo ciao mi ma eri tu quello che spacciava cocaina al parco a Roma? mi sa di sì? no eh? mi hai scammato ho pagato più 4 grammi ne ho avuti due punto ma ti rendi conto? eh? qua qua ragazzi faccio vedere la casa dell'ho youtube apriti casa buonasera alex apri casa eccomi ah domotiche si si ragazzi se volete dormire qua si ragazzi ci accomodiamo io mi do una stesa ah comodissima questo è il mio angolo preferito buonanotte buonanotte d'annunzio buonanotte d'annunzio buonanotte buonanotte d'annunzio è giusto educare è giusto educare è giusto educare buonanotte 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 max buonanotte buonanotte max